It's the most wonderful time of the year Allora, abbiamo già il primo ospite di questo goloso talk show dedicato a DocDefault Date il benvenuto al famoso scrittore di successo, Adrian Kalel Eeeh, qua ci saranno di voler il coro sotto che urla, la bolla in delirio E come va? Che mi dici? Bene, bene, tutto bene Dentista di oggi, come è andato? Eeeh, è andato È andato È un po' come mi aspettavo, sì Ciao Mark Ciao Belli Dovrò spendere un sacco di soldi per farmi spaccare la bocca Ah, un bel progetto Eh, sì, sì Non male Stavo procrastinando sta cosa da un po' di tempo Vabbè, adesso voglio dedicare un po' di tempo anche a sta cosa Sì, Mark, tu toccai oggi, oggi però sei a casa tua, questa cosa non va bene No, allora, ho Chopper, dove? Non so Ho Chopper, ma non ho il Fenicottero Dai che bellino Tra l'altro mi hai mandato, mi ha copiato Raiden Adesso Raiden c'ha il Fenicottero Ti rendi conto, ti hanno rubato il Fenicottero Questo è un sacco Dovrò comprarmelo anche qui Ah, ma Chopper è meglio, dai Sì, è più bellino È più coccoloso È più coccoloso Ah, è vero, cazzo, devo ordinare i numeri nuovi di One Piece Ma l'hai fatto venire in mente adesso, grazie Bravo Allora, io direi anche, possiamo pure iniziare a parlare di Occhio di Falco Vi chiedo le vostre due opinioni Io molto in breve mi è piaciuta Mi è piaciuto il fatto che sia una serie molto normale Molto terra-terra con eroi umani essenzialmente È completamente contrapposto a quello che può essere, ne so, Bandavision, Loki O anche l'idea del fatto, cioè, l'idea di Doctor Strange, no? Minacce del multiverso, quel che sia E invece farti vedere una cosettina normale come questa Su me sarà molto, veramente una bella idea Poi dopo ne parliamo meglio nel dettaglio Voi? Andiamo in ordine di entrata, Adrian? Allora, io stavo riflettendo giusto oggi Perché stavo, sto preparando la classifica delle serie TV del 2021 Per più le menzioni speciali Io mi guardo tutte le tue storie Mica come Andrea Bellucci Che se le guarda solo quando ti deve dissare È vero, è vero, bravo Infatti io apprezzo sta colla Ho riflettuto un po' soprattutto sulle serie male Perché sono state 3000 quest'anno E secondo me anche per quello, anche con una certa Ciao a Rob Ciao a tutti Anche con una certa stanchezza mentale Che ho detto Cazzo, penso che, ok, sia stata quella che mi è piaciuta di più in assoluto Proprio perché era leggera Ho detto perché dopo un intero anno Dove comunque siamo stati, soprattutto anche dopo un'uscita importante come Spider-Man Avere avuto una serie tranquilla, leggera e tutto quanto Mi è piaciuto molto Ho riflettuto molto su Loki Però credo che alla lunga Ciao Tia Mi sia piaciuto Ciao Ok Forse più per la sintonia che c'era tra Kate Bishop e Occhio di Falco Che l'ho preferita praticamente a tutte le accoppiate che si sono viste finora Forse solo, allo stesso livello metterei forse solo quella di Van de Visione Ma perché lì è un rapporto completamente diverso È già resistente comunque Esatto A livello di buddy movie o comunque di dinamiche simile Secondo me è stato il meglio ed era un po' quello che avrei voluto vedere da Falcon and the Winter Soldier Io mi aspettavo questo da Falcon and the Winter Soldier Poi la storia è andata tutta dall'altra parte e va bene, cioè mi è piaciuto quello che è stato alla fine Però avrei sperato di vedere questo già da Falcon and the Winter Soldier Ok, Mark? Allora io spezzo un po' questa cosa, nel senso, in realtà mi è piaciuta L'ho scritto anche su Instagram Però la ho di, è la verità No, no, non c'è Toby Ah, però se ci fosse stato, sarebbe stata la peggiore, dai No, 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 assolutamente Allora, mi è piaciuta e tutto quanto, però avrei voluto tantissimo, mi piacesse molto di più Invece ci sono state delle cose che a me proprio non mi sono andate giù Quindi, fondamentalmente è stata, sì, la più conclusiva, la più completa, se vogliamo, tra quelle uscite Ma non tanto per merito suo, quanto forse per demerito delle altre che lasciavano sempre qualche spiraglio aperto Però ci sono state cose tipo Jelena, tipo... Vabbè, facciamo un spoiler, no? Sì, sì Come sempre Sì, sì Anche Kingpin Non si poteva dire, però, scusa, ma... Allora, scusa, mi dici le cose No, vabbè, Jelena, se tu la togli dalla serie, per me non cambia niente Nonostante mi siano piaciuti tutti i suoi dialoghi Per carità, anche il rapporto con Kate Mi è... Eh, sei sempre la vicina che scarica, scusa Ciao ragazzi Ciao, vi Ciao, vi Mi sono piaciuti tutti i dialoghi in cui c'è lei Mi sono piaciute le scene Forse un dialogo è stato un po' troppo lungo, il primo Cioè, metà di quel dialogo io l'avrei tagliato perché era veramente troppo lungo Stavano parlando un sacco e non stava portando a niente con la discussione Però vabbè E però se la togli non serve a niente effettivamente E poi non ho mai avuto la sensazione che volesse effettivamente fare del male a qualcuno Mai Cioè, ok, lei minaccia Ce l'aspettavamo, per carità Non che mi aspettassi veramente che uccidesse qualcuno Però, siccome la trama era quella, mi aspettavo di vederla un po' più cattiva Invece era nella prima parte con Kate molto più... Giocherellone Scemotta Sì, giocherellone E nella seconda, nel dialogo con Clint Sì, c'è il combattimento, ma non l'ho mai vista così cattiva E Kingpin, quando ha iniziato a parlare, ho detto Ok, è lui Quello di Netflix, che abbiamo visto tutti, cattivissimo Poi dopo ha iniziato a diventare un po' di più l'Orso Yogi Ciao, Andrea È diventato sempre un po' di più l'Orso Yogi E un pochino mi ha dato... Cioè, non ha dato fastidio, però mi ha... In che senso l'Orso Yogi? Non lo so, l'ho visto impacciato, goffo Cioè, non mi ha fatto paura Per carità, è una serie di Disney Quindi mi aspettavo non fosse quello Anche perché l'abbiamo detto Che non era quello di Netflix Però mi è sembrato molto goffo Molto strano Non lo so, ma l'aspettavo molto più Un po' zio Zio alle feste Sì, sì Vabbè, la camicia era una citazione ai fumetti Quella l'ho anche apprezzata Però tutto il resto era boh Non mi ha messo paura Era un po' un pirletta Cioè, doveva essere un po' più... Lo volevo più cattivo Più... Io, nella serie di Netflix Ogni volta che lo vedevi scena Donofrio ero... Ero cagato Però non potevi fare così Perché i bambini scappavano urlando Prende a martellare il padre Infatti, mi aspettavo Non fosse quello Ma dall'altra parte Non mi aspettavo nemmeno Che... Non lo so L'ho visto goffo Non so neanche come Poi sicuramente come serie Mi è piaciuta Mi ha intrattenuto Per gli stessi motivi Che ha detto Adrian Forse rimane Quella più particolare Che ha provato a usare un po' di più Rimane WandaVision Per me Con un sacco di difetti Io stesso il finale Per me Ancora A-Word Ce l'ho qui Che non mi ha detto Perché sei incazzato Perché è cattivo Sì Non si sa niente Però la serie ha usato molto di più È stata quella più sperimentale Parte in un modo Poi cambia Hanno fatto tanti esperimenti Anche le... Non lo so Quella sicuramente è quella Che mi è rimasta più Tanti stili diversi Nel cuore Sì Per cui mi è piaciuta Ma Questo è il mio riassunto Di occhio di fatto Penso che sia riassunto Di tutte le serie Marvel Uscite finora Sì Probabilmente Ci sarà sempre qualcosa Qualcosina che non va Rob Stiamo andando in ordine Per chi si è Arrivato dopo Se è unito dopo Andiamo in ordine Allora io l'ho apprezzata tantissimo Premesso che Ha ovviamente Le sue cadute Ha ovviamente I suoi difetti Secondo me Sembra la serie Marvel Più coerente Per essere una serie TV Diciamo che funziona Che funziona più di altre Ha abbandonato Il modello del film Suddiviso ad atti Per trasformarsi In una serie A tutti gli effetti Spesso e volentieri Sento dire Ma questo dialogo Che cosa serve Questa conversazione Che cosa porta Le serie TV Probabilmente Netflix HBO Tutti gli altri servizi streaming Ci hanno un pochino Plagiato a questo proposito Ma le serie TV Servono principalmente Anche a sviluppare I rapporti tra i personaggi E a creare una sorta Di empatia con il pubblico Quindi questo tipo Di conversazione Questo tipo di dialoghi Da un punto di vista Di scrittura e di registro Servono 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 molto Per quanto mi riguarda La cosa che funziona Di meno All'interno di questo show Nonostante sia contentissimo Del suo ritorno E proprio il Kingpin Anzi il Kingpirletta Parafrasando Mark Di Vincent Donofrio Perché Nonostante Mi aspettassi una variante Per forza di cose Secondo me Un episodio È veramente Troppo poco Per riuscire A raccontare bene Il personaggio E se nella prima scena Mi è piaciuto molto Nel dialogo in ufficio Con l'occhio che gli balla Il sudore in testa Le vene gonfie E gli ho detto Ho capito che approccio Stanno cercando Subito dopo Hanno lasciato un po' troppo La caratterizzazione Del personaggio Perché chiaramente Volevano raccontare di più Volevano mostrare Diverse sfumature Ma lo screen time A disposizione Quello era Perché ho apprezzato Tanto Kai Inizialmente perché Oltre al modello Di essere uno show Televisivo A tutti gli effetti In un film Di fatto Prendono finalmente Kevin Feige Gli dicono Hai fatto Il quadro generale Della serie Ci hai detto Dove i personaggi Non arrivare Fatti da parte Lasciala qualcun altro Feige che è remida Dei produttori al cinema Per quanto mi riguarda Non è fatto Per fare le serie tv E questa serie È la prima serie Marvel Che di fatto Viene curata Ciao Giulia Ciao È di fatto La prima serie Marvel Che viene curata Da altri produttori E questa è una cosa Che a me personalmente Non dispiace Ed è di fatto Anche uno show Che gli altri produttori Esposito in primis Ma adesso Perdonatemi Ho un lapsus Sono anziano Ditemi il nome Ecco Victoria Alonso Ecco Perfetto Ecco Victoria Alonso Ha detto in un'intervista Anche in più interviste Questo è il primo prodotto Dei Marvel Studios Nonostante io sia a bordo Dai tempi del primo Iron Man Che sento realmente mio È proprio Un mio figlioccio Ed Esposito ha detto Io ho aiutato Victoria L'unica cosa che ha detto Kevin Fagy è La scena fighissima Dell'inseguimento Nel terzo episodio Fatelo di giorno Anziché di notte Stop E devo dire Che un cambio di registro Inizialmente volevamo Farlo di notte Sì E Kevin Fagy ha detto Dobbiamo mostrare qualcosa Fatela di giorno È costata di più Però ne è valsa la pena Perché comunque Vedi di più La resa scenica è fantastica Il piano sequenza Degli seguimenti in auto È veramente valido Però al di là di quello Per il resto L'hanno gestita Tutte l'esposito E all'uso E io una differenza L'ho sentita Ripeto Non stiamo parlando Niente di trascendentale O che è un capolavoro O quant'altro È una serie Molto più minimalista Molto più urbana Molto più piccola Anche per contenuti Personaggi Contesti Però è riuscita A creare empatia Nei confronti dei personaggi Kate Bishop È irresistibile Il mio personaggio preferito A fine show Che all'inizio Non lo potevo reggere È Jack Io vorrei Voglio vedere Jack Quanto prima Perché La direzione che hanno preso Ok Mi aspettavo Chi fosse il vero colpevole L'avevo un attimino Sentito avvertito Sin dalle prime battute Perché le reazioni umane Della madre Non erano plausibili A quello che ti dice tua figlia Dirigi una società Di sicurezza privata Tua figlia Ti mette in allarme su questo Non puoi ogni volta Vivo per tre Uscirtene con Ma sì Non è un problema Quindi capivo Che c'era qualcosa sotto Ma il percorso Che hanno dato Al personaggio di Jack L'ho trovato Particolarmente soddisfacente Per i risvolti finali Che ha avuto Nell'episodio finale Perché mi è stato Molto simpatico Così come è stato scritto All'inizio pensavo Che fosse Volutamente Sopra le righe Per nascondere qualcosa Che sfidasse quasi Kate Come quando gli è dato La caramella E poi invece ho scoperto Che fosse veramente Un babbo di minchia E questa cosa Mi è piaciuta tantissimo Perché me l'ha resa adorabile Mi è piaciuto Che abbiano Rebranderizzato Clint Che abbiano fatto autocritica Perché tutti abbiamo detto Sì ma una serie Suocchi di Falco funziona Il personaggio è in grado Di reggere magari Un film su di sé E Kate gli dice Di fatto Che cosa può fare Per cambiare la percezione Che gli altri hanno Peraltro Jeremy Renner è l'unico Veravenger nella vita reale Perché non so se avete visto Un po' di video Dietro le quinte Di giochi e quant'altro Per la promozione Di Disney Plus Lui è veramente Un bravo arciere L'unico che Le cui skill Sono presenti Nella vita vera E mi è piaciuto tantissimo Nonostante il fatto Che tanto lui Con le frecce gadget Tanto Natasha Nel terzo atto Di Black Widow Dove praticamente Una rambola femminile Quasi Alito Ma cotto in ghost In the shell Le hanno oppate tantissimo Quello mi ha dato Un po' fastidio Perché dico Cazzo se erano così potenti Avevano tutti sti gadget Perché magari In Infinity War Ed Endgame Ma vabbè Per il resto Devo dire che comunque La scrittura è stata Davvero molto valida Nel contesto televisivo Non nel contesto Marvel Perché è lecito Aspettarsi di più È lecito desiderare di più E salvo lo scivolone Di Kingpin È il primo show Che io mi sento Di promuovere In maniera piuttosto solida Matioschi Devo arrivare sempre io A romper le palle Eh beh perché sono di noi È il tuo cuore È il tuo destino Mattia Ti accetta Lo fai prima Sei capitato lì Il nostro comefisto Diciamo che Stavate già facendo La classifica Delle serie Marvel Sicuramente nella parte alta Però In linea di massima Non mi ha convinto Completamente Riconosco I pregi che ha Che però Temo siano pregi Che spiccano Per via dei di meriti Altrui Anche quello che diceva Mark Elogiare la caratterizzazione Dei protagonisti Sì ma avrei voluto La stessa cosa Da tutte le serie Viste fin qui E il fatto che Che lei ce l'abbia È sì un pregio Ma che paradossalmente Getta ancora più Nello sconforto Le varie proposte Precedenti Non l'ho percepita Come una serie A me è sembrato Ancora una volta Un film diluito Con un po' d'acqua Perché Soprattutto a metà stagione Ho visto i personaggi Privi di una direzione Specifica È vero che Il rapporto tra i due È molto bello Credo per merito Dell'alchimia Tra i due interpreti Perché credo Che anche quello A un certo punto Si freni Rimanga lì Più o meno Arriviamo A un punto di stallo Già nella seconda Terza puntata Con Lei che lo vede Come mentore Lui che vorrebbe Esprimersi In maniera più calorosa Ma riduce Dalla scomparsa Di Natasha Un po' Un orso E poi siccome Arriva l'ultima puntata Si sbloccano Non c'è un motivo Un fattore scatenante L'ultima puntata Lui comincia A sbilanciarsi Un po' di più Lei che fino a quel momento Era stata scapestrata Capisce che forse Sarebbe il caso Di agire in maniera Un po' più consapevole E ok Perché è arrivato il finale Fino all'episodio precedente Erano ancora fermi Non è Scusami se ti interrompo È giusto per Per rilacciarmi Non è la scena In cui lei racconta Quando ero piccola Sono stata attaccata Dagli alieni E tu mi hai ispirato Perché sei saltato giù Da un grattacielo Con una corda e un filo Non è quel momento In cui Clint Ma magari sbaglio Dal punto di vista di lei Questa era una consapevolezza Già acquisita Io mi ricordo L'assalto Al quartier generale Di Eco Quando devono prendere L'orologio Lei che fa quello che vuole Non ascoltando minimamente Quello che dovrebbe essere Il suo idolo E lì poi C'è un allontanamento Motivato Perché lui rivive Il trauma di Natasha E nella puntata dopo Si risolve Con lei che arriva Tira una freccia E ok Ma manca sempre Quello spessore in più Che io vorrei Che magari però Non devo cercare Nei prodotti di questo tipo Quindi potrebbe essere Un problema mio Ci sono poi Due personaggi Che si equivalgono Ovvero Maya Lopez E Yelena Belova Che hanno lo stesso Obiettivo Identico E la risoluzione Della loro tensione Con occhio di falco Altrettanto identico Combattono Dialogo Fine Entrambe Vogliono far la pelle Occhio di falco Perché sono convinte Che lui abbia ammazzato Qualcuno Non è vero Che lui è ammazzato Quel qualcuno Parliamo Ok Quindi per due volte Abbiamo assistito Alla stessa Sottotrama Solo che Yelena È carismatica È interpretata bene Maya Lopez Per me è il nulla Portato sullo schermo So che dobbiamo aspettare Una serie su di lei Mi chiedo A chi interessi Perché so che L'attrice esordiente Poverina E si vede tutto Non l'ho trovata carismatica È protagonista Di tre scontri Li perde tutti e tre Io personalmente Io personalmente Non mi sento motivato Dovrei sentirmi spinto Dal fatto che Presumibilmente Ci sarà Kimpin È diventato Un pippone Anche lui Donofri Un pochettino Ci prova A livello recitativo È quasi sfasato Rispetto agli altri Perché lui L'ha anche dichiarato Nelle interviste Lo interpreta Come se fosse ancora Il Kimpin Netflix Però Ha anche detto Che ci sono delle Differenze Un po' difficili Da conciliare E all'interno Di una serie Elogiata Per essere con i piedi Per terra Vedere questo qui Che arriva Si prende una bomba In faccia E lo investono E c'è la freccia Conficata E non si fa niente Già mi ha creato Una piccola Distorsione A livello di Di ricezione Poi lui Veramente L'avete già detto voi Vorresti andarli A stringere le guanciotte E dirgli Dai poverino Vedrai che si risolve tutto Non lo attendo Poi effettivamente È piacevole Devo dire che è divertente Ho provato Un pelo di noia Solo nella penultima Come detto Rispetto alle altre Per me da secondo posto Anche io Continuo a premiare Nonostante tutto WandaVision Grazie alle prime puntate E al suo coraggio Nello sperimentare E nell'imbastire Una trama mystery Quindi sicuramente La rivedrei anche Ben più volentieri Rispetto a Una Loki Un Falcon e Winter Soldier Però Io mi aspettavo di più Da questi prodotti Rimangono lì In un limbo In una zona centrale Secondo me Occhio di Falco Le puoi vedere Mentre stiri O mentre lavi i piatti E non ti perdi nulla E sono concepite così Quindi ripeto Sarà un mio problema Di approccio Però dei Marvel Studios Mi aspettavo Un po' più di gravità Per usare un termine Che vuol dire Tutto e niente Allo stesso tempo Va bene Andrea Per me La serie migliore Che ha fatto Disney Per il semplice fatto Che sarebbe stata WandaVision Però La questione del finale Mi fa ancora Girare un po' le palle Soprattutto dopo aver visto Loki E soprattutto Dopo aver visto Spider-Man Dato che Potevano dare effettivamente Quello con cui hanno trollato Tutti quanti Ma Non hanno voluto Possono dare la scusa Al covid Finché vogliono Però io rimango Della idea Che a questo punto La fai uscita Una settimana dopo E una mezza riprese in più Anche per dire Una frase La aggiungi È come la roba Di un riff Dell'episodio tagliato Per il covid È lo stesso ragionamento Assolutamente A me la serie è piaciuta molto Perché Alla fine È divertente Partendo dal presupposto Che Sono sempre dell'idea Che prodotti perfetti Al 100% Non esistano mai Quindi Magari parto dai difetti La cosa che Non mi è piaciuta Poco Quasi per niente È stato il personaggio Di Echo Maya E qui Come ho sempre detto Mi aggancio anche A quello che ha detto Mattia prima Forse La cosa peggiore Che è uscita Da questa serie È che Io non ho assolutamente Voglia di vedere Una serie su Echo Proprio zero D'accordo Un personaggio Che non mi ha lasciato Non mi ha lasciato niente Più che altro Per come è stata Strutturata All'interno della serie Fa una fine Fa una figura Misera anche lei Alla fine Nel senso che Parte che sembra Che è lei Il villain Principale Tutto quanto Poi alla fine Non gliene frega Niente più a nessuno Tanto è vero Che arriva Si scontra Con Kazzy Kazzy Se ne va Sì Poi si Si incontra Con Kingpin Con quella morte Farlocca Qui non ci crede nessuno Però sinceramente Ripeto Io spero sempre Nell'annuncino Eh raga La serie su Echo E Daredevil Perché Se rimane solo Echo La guarderò Perché la devo vedere Però Sì esatto Sarebbe più interessante Con Daredevil Potessi fare altro Farei altro Invece mi è piaciuto Molto la La relazione Tra Clint e Kate Loro due Sono Funzionano Funzionano molto bene C'è da dire Che partono Da una randa fumetti Che ho amato La follia Che per quanto Si sono distaccati Per obvi motivi E ovviamente Si va a fare il paragone Tra il fumetto E la serie La serie ne esce Sconfitta Su tutti i campi Dato che il bello Del fumetto Era appunto Questo contesto Che non era solo urbano Ma era proprio condominiale Rilegato a quel quartiere Dove c'era Quella struttura Bariopinta Di coinquilini Ognuno con le sue caratteristiche E tutto quanto Però tutto sommato È stata divertente Piaceva proprio da vedere Me la sono Me la sono proprio goduta E Come avevo detto Anche l'attore Siamo visti Forse il fatto Che in questo periodo In cui ci siamo I multiversi Tutto sto casino Roba super spaziale Abbiamo ancora un po' Il sentore Dal Da Avengers In Game Guarda i terni Che Ancora ci sono Ste cose gigantesche Che poi compaiono In mezzo all'oceano Vedere qualcosa Molto più Terra a terra Urbano L'ho preferito Senza contare Che io poi Di base Se ne dovessi scegliere Proprio a priori Una storia cosmica Con una storia di gente Tipo Daredevil Che si è ammazzata In mezzo a Hell's Kitchen Ti direi Vado su Daredevil Quindi proprio Per il mio gusto personale Quella che Quella che mi è piaciuta di più Per quanto riguarda La questione di Kingpin Che dicevate prima Sono abbastanza d'accordo Più che altro Tanto potente lui Prima Nella scena Quando è nel Nel suo Nel suo covo Con lui che appunto Muove l'occhio Con quel tic da pazzo Piuttosto Che quello che succede dopo Però boh Sono dell'idea Che l'hanno schiaffato Lì un po' Come hanno schiaffato Devil In Spider-Man Cioè L'hanno messo lì Ti hanno detto C'è Fa cose Esiste Esiste Lo rivedremo E direi che E possiamo dare scusa Poi ti lascio Sennò poi me lo Me lo perdo Direi anche per scontato Che non è lui Che ha comprato La Avengers Tower A questo punto Che sta nello scantinato E quindi rimane anche il dubbio Ce l'hanno ributtata lì Ci diranno prima o poi Chi cazzo si è comprato Sta Avengers Tower Dato che sono anni Che continuano a girarci attorno La mia unica preoccupazione Per King King Nel senso Allora Io capisco Che qui l'hanno voluto Tornare giù Per renderlo più Amalgamato All'interno della serie Che appunto Mi hanno detto Non poteva comportarsi Allo stesso modo Come l'hanno visto In Dark Devil Dopo una serie leggera Però la mia preoccupazione È per quello che verrà dopo Cioè Metti caso Boh adesso Cicciano fuori Una serie Disney Plus Di Dark Devil Dove c'è Kingpin Adesso però Quel Kingpin Deve ritornare a essere Il suo Kingpin C'è il Kingpin Normale Originale Violento E uno dici Ok però Non si perde un po' La continuità Con quello che Abbiamo visto adesso Perché è quello Che a me preoccupa Dici Nell'MCU La prima interazione Che abbiamo visto Ora con Kingpin È questa Questa di Hokai Se appunto Non teniamo conto Della serie Netflix Di Dark Devil E tu me l'hai introdotto Non è il Kingpin Della MCU Ma è il Kingpin Adattato a Occhio di Falco Sì nel senso Cioè allora Lo so che D'Occhio ha detto Che lui l'ha interpretato Appunto come Se fosse sempre stato Il Dark Devil Però A livello di Non lo so Di trama Di canon Ancora non c'è stato Detto con precisione Quanta valenza Ha Dark Devil Cioè a me piace pensare Che sia canonico Perché hanno ripreso Gli stessi personaggi Gli stessi attori Però Morto Però Comunque sia Comunque sia Io devo guardare Quello che ho Io devo guardare Quello che ho Cioè Nell MCU Per quello che Noi intendiamo adesso Come canone Questo che abbiamo visto In Hokai È la prima versione Del Sì del personaggio Del personaggio Quindi Cioè Cosa fai adesso Me lo continui Su questa falsariga Perché no Sarebbe assolutamente Ridicolo Mi sta bene qui Assolutamente Ho detto ok Sì non è il massimo Però capisco Perché l'abbiano introdotto così Ma adesso Dalla sua prossima Dalla prossima volta Che comparirà Probabilmente ci sarà Un salto Incredibile del personaggio Perché cambierà totalmente È uno che magari Non ha seguito Il resto Che magari vede Solo Kai E vede poi il prodotto dopo Rimane un attimo spiazzato Kalel Siamo sicuri Che ci sarà Questo cambiamento Infatti Secondo me no Per me il problema Il personaggio è quello Lo lasciano così Di Timping Per me è un po' È un po' simile A quello di Di Echo A noi risulta affascinante Perché ha un trascorso Seriale Un trascorso appunto Ma prendiamolo come personaggio All'esordio Anche perché secondo me È una variante Stanno spingendo sui multiversi Probabilmente Non è un personaggio Carismatico O che ci fa interrogare Sul suo futuro L'hanno presentato come Il boss che ha l'ufficio Alla concessionaria Oltretutto la sua banda Sono la mafia in tuta Che sono degli scappati Dei fratelli Come di relief Esatto Ha dei superpoteri Non meglio specificati Magari assunto Qualche siero Chi lo sa Ma secondo me Ha qualcosa Indossa qualcosa sotto Può anche essere Ha un'armatura Primo scontro Ricordati che l'armatura La indossava anche in The Devil Non è Primo scontro Perde A me perché interessa Questo qui Non lo so Andiamo avanti Sulla base del trasporto emotivo Perché Donofrio Che bello Chissà cosa faranno Però io sono un po' stanco Del chissà cosa faranno Perché non fate E ho sentito dire E vabbè ma è Hawkeye Ho capito Ma lui poteva comunque Rimanere un personaggio Serioso Che lavorava Nel dietro le quinte Io non ho neanche capito Perché si è andato lui In prima persona A prendere questa qui Ma manda dei sicari Manda a tuoi uomini No scende in campo E le prende Non c'era bisogno E il fatto è che i sicari Che ho fatto Tu sulla banda va sotto E ho caratterizzato In maniera un po' diversa Casi È un fatto personale Però è una Dei tanti seguaci Che ha Che cerca un po' Di tradirlo Ma manda qualcuno A farla fuori Non ci vuole tanto No va lui Sfonda le portiere Ok se passa un poliziotto Di lì si è spacciato Non so Boh È molto strano Molto molto strano E io credo che Qualche uccisione Off screen Ho capito che Non possono far vedere Il sangue E la testa spappolata Ma nel reame PG-13 Abbiamo visto Decapitazioni Nell'MCU Vorrei ricordarvi La cantine real La puoi comunque esprimere Qui l'hanno molto Ridimensionato Magari ci aspetta Un'ascesa Comincia fallendo E la rabbia Lo motiva Facendolo diventare Spietato In Devil Secondo me Moon Knight Sarà Moon Knight Sarà Il prodotto Che ci farà capire Quanto effettivamente Vogliono spingersi Sulla violenza Se sarà tanto edulcorato Moon Knight Inizierò ad aver paura Scusate Ma ci sono dubbi Sul fatto che possa essere edulcorato Io non c'è Neanche se c'è qualcuno di Disney Che viene a dirmi Sarà violento Gli credo Vabbè Fira che punto Violenza Disney Ma non sarà violento Cioè Quei due secondi Che avevo visto del trailer Dove lui Menava duro Nel bagno Poi vediamo Magari Con John Walker L'ho fatta leggermente Più del solito È vero Sì è vero Con John Walker Si vedeva sangue Sullo scudo C'è qualcosina di più Ovviamente anche lì Se la paragonia Una sola puntata di Daredevil È Paperino Guarda Però Però è comunque C'è lui che Con lo scudo di Capitano America Che lo macchia di sangue È già qualcosina Ecco Comunque Volevo dire Le ultime due cose Così poi concludo Il mio parere Al primo era che Porca puttana Però Un collegamentino a Spider-Man A sto punto Ci poteva stare Secondo me Sempre della stessa storia Dopo aver visto entrambi i prodotti Potevano schiaffarlo lì Magari nella post-credit Perché Non so se ne avevate parlato prima No ancora no Ancora no A me la post-credit È piaciuta È bella Sono stato contento Di vedere il musical Era la prima cosa Quando l'avevo visto la prima volta Ho detto Cavolo vorrei vederlo Però Cavolo Mi devi dare qualcos'altro Anche Perché a questo punto Non sappiamo un cazzo Non sappiamo niente di E Però il problema Su me era Il rischio spoiler Cioè era il fatto Che tu con la puntata Vai a spoilerare il film Al cinema Che magari la gente Ancora Vabbè ma lascia stare Spider-Man Anche una post-credit Che ci faccia capire Più o meno Dove andranno a parare Tutti gli altri personaggi Che abbiamo visto in questa serie C'è quella che dicono Che hanno cancellato Con Che si vedeva Kingpin in vita Che arrivava il messaggio Da Clint In cui diceva Stai tornando la mia famiglia Ok Non ti vuoi spoilerare Che è ancora vivo Kingpin Io avrei preferito No no Quello va bene No io dicevo Chi è che ci crede Che ti introducono Kingpin Ed è morto E poi per la questione Kingpin Volevo ridire la frase Che aveva detto Jack Che Stiziano sa qual è Che Mi piace Cioè mi piace Mi stranito un po' Come l'hanno introdotto Anche a me Lui infatti Che è un mio amico Quando abbiamo fatto live Che diceva C'è Kingpin Se ci pensate Funziona Perché noi sappiamo Chi è Kingpin Perché per come Ti viene introdotto Uno non ha idea Assolutamente Di che è il personaggio Dice Ma che cazzo è Infatti io l'ho visto con Paola Paola Di Daredevil Ha detto ok Cioè io ho detto Hai visto Hai visto Anche la mia ragazza E' un po' Tutto sto clamore Per A Ok Ma ragazzi Ma è la stessa cosa Anche di Daredevil In Spider-Man però Esatto Però ti dico Allora è vero Che è un cameino Però nel cameo Risulta accattivante Anche chi non lo conosce Si chiede Come fa questo A fermare il mattone Vuoi vedere che Ti crea curiosità Kingpin è È come un wrestler Che fa il suo esordio No anzi Uno che non vedevi Da molti anni Sul ring Ritorna Sono tornato E le prende Immediatamente Un po' Ti fa dire Tipo di Anzi Anzi Forse è ancora Pesca Cioè tipo il fatto Che lui Con il blip Ha perso Il controllo Di New York E vuole Far sì Che la gente Capisca che la città È ancora sua Lui dice così Nella serie Quindi magari anche Quello Sì Rob Rob Dice A questo punto Per me Quello che davvero Spero È che sia Appunto Un'ascesa sua Cioè Se nelle prossime Serie Mi fai vedere L'ascesa Di Kingpin Potrebbe essere Molto interessante Quale cosa Se rimane così Perché appunto È vero E nel senso Comunque Spider-Man Per quanto fosse un cameo Ti eri Eri contento Perché hai visto Daredevil Perché comunque Era Daredevil Anche se non fosse stato Charlie Cox Era comunque Daredevil Perché era lui Era l'avvocato cieco Però che capivi Che avevano i superpoteri Qua però È Vincent D'Onofrio Cioè tu sei contento Perché c'è Vincent D'Onofrio Ti avessero messo Kingpin Ma con un altro attore Non avresti avuto Alcun tipo di reazione Ma hanno puntato Esclusivamente su quello Perché il punto è Non puoi In nessun modo Rendere Il Kingpin Di D'Onofrio Carismatico Con quello di Daredevil Senza farlo pazzo Che ti decapita Le persone porchierate Era quella La forza del personaggio È che era Tutto pacato Elegante Tranquillo Ma sotto sotto Era un cazzo Di sociopatico Che ti ammazza Con la cannuccia Della Viro Se gli fai girare i coglioni E quello è Kingpin E non lo potrei Mai replicare È impossibile Perché dovrebbe essere Troppo violento Non possono metterti Un personaggio così violento Io non l'ho neanche trovato Così scavroso Onestamente Sicuramente Non è quello È chiaro che sia una variante Non è I personaggi Che vediamo Daredevil Kingpin Non sono quelli di Netflix Sono gli stessi attori Ma i personaggi Sono completamente differenti Non possono essere quelli È impossibile Perché non è Non è la loro caratterizzazione Il Matt Mardock Non era così Gioviale e simpatico Quando faceva l'avvocato Non era così Che faceva le battute Ma quando mai No Non è quel Matt Mardock Lì Poi ha ragione Mattia Quando dice Che è più accattivante Di questo Kingpin Poi io non l'ho trovato Così disastroso Anzi A me l'idea Il fatto che lo vedi Che si Insomma Che regge così bene Le mazzate A me piace Perché è chiaro Che ti spiegheranno Perché come quello Daredevil Aveva l'armatura Che ovviamente Non era una roba del genere Era una cosa più realistica Questo ha sicuramente qualcosa Io sospetto che sia addirittura Tecnologia Stark Secondo me ha una Non dico All'armatura di Iron Man Attenzione Ma ha qualcosa Un isoskeletron Qualcosa Perché Sì Qualcosa ce l'ha È lo stesso concetto Dell'armatura Che era poi Il vestito stesso Che aveva in Daredevil Ma In Salsa MCU È vero che Non ha il suo stesso carisma Per come compare Io magari mi aspettavo Che prendesse meno mazzate In realtà Mi piace L'idea di vedere Un Kingpin Un po' più debole Rispetto a quello Che ricordavamo Perché come dice Adrian potrebbe essere Che Fai vedere una sua ascesa Non sarebbe bello Però non è che Però posso dire una cosa Che Cioè lui perde Con un'esplosione Sì infatti Cioè nel senso Non è che lui perde Sì Neanche le sente Queste cose qua Secondo me è sbagliato Dall'altro lato Cioè lui neanche le sente Queste cose Ma Piccaltro se cosa è Ma Se cosa è Ma Cioè Io forse magari Non so se ti riferivi a me Io ho notato differenze Ma non che non mi sia piaciuta La seconda parte Il problema è che Per come te lo fanno vedere Nella prima Io mi sarei aspettato Che si trova davanti Kate Non è che sei troppo A tergiversare Va per farla La prende La fa fuori subito A un certo punto Ma per farlo Che viene investito E no 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 A un certo punto Lui la sballotta via E fa per andarsene E noi fa Quella è esatto Non va neanche A farla fuori Quella è l'unica Ma perché questa cosa L'avrebbe Cioè Il Kimping Di Daredevil L'avrebbe presa E l'avrebbe schiacciato La testa sotto il tacco Non lo puoi fare Ma Non lo farai Però perdonami Non è detto che lo faccia Fammi vedere almeno L'intenzione Lui va per farlo Magari le stringi Un attimo la testa Tra le mani E lei si libera Ma cioè Non è necessario Ma perché troppo Vedere Cioè troppo vedere Uno che stringe la testa Di un altro tra le mani Ma perché ti ripeto Se Secondo me Non gli vogliono Ed è un peccato Dare la caratterizzazione Che aveva Daredevil Quello di Daredevil E allora non mettermi Donofrio però Ma secondo me C'è una via di mezzo Comunque Lo sapevamo tutti Però dall'altra parte Non voglio neanche Chi sia l'orso yogi Cioè mi piacerebbe Ma io Del primo discorso iniziale Che gli vibra Io ho detto E lui Cioè quando iniziano a parlare Ho detto C'ho creduto io Ho detto Caspita Io non l'ho visto Come l'orso yogi Vi dico la verità Anzi A me paradossalmente Il fatto che Prenda tutte quelle mazzate Sia sempre in piedi Non me lo rende Poi così tanto Cioè addirittura Quando ecco Sta per spararli E lì patetico Comunque Raga gli sono esplose Non so quante frecce Sotto ai piedi Per quanto è potente Kimping fisicamente Dai un minimo Però quello Quello che dico io È che è una scelta Degli sceneggiatori Tu questo Kimping Potevi gestirlo In mille modi diversi Ma sicuramente Secondo me È proprio una direttiva È una direttiva dall'alto Non può essere Violento e pazzo Come in Daredevil E l'hanno gestito In una maniera Magari non soddisfacente Però io mi ricollego A quello che ha detto Rob Secondo me è troppo poco È troppo poco Per poterlo giudicare Magari non si presenta benissimo Però io non sono così drastico Nel giudicarlo È una mera manovra di marketing Gestita un po' con il culo Perché loro non hanno puntato Su Kimping Loro hanno puntato Su Donofrio Perché se Donofrio Avesse interpretato L'orso balosso Avrebbero detto Cioè l'orso balosso È uguale Ma ti faccio un esempio Per quanto sia rimasto Disney Guarda William Defoe In No Way Home William Defoe In No Way Home È parecchio cattivo Parecchio perfido Nonostante non sia Un Ovviamente È un diverso tipo Di cosa Perché Donofrio È diverso È una roba diverso Sportellate Capito No certo Ma infatti per quello ti dicevo Io non volevo quello di Netflix Ma vorrei comunque Che dimostrasse Di essere temibile Attualmente Non è temibile Addirittura Fai la scena in cui Chiaramente non è morto Gli spara E lo vedremo La pipa dell'anno Però Tra l'altro Gli spara Ecco che Per quanto abbia amato Tutta la parte In cui fanno vedere Il suo Insomma Allenamento Sì No no Il suo Essere non udente Esatto Ok Per quanto abbia amato Tutta quella parte Come dicevamo anche prima Tutto il resto La sua storia d'amoro Non me ne fregava niente Lei Ha sempre perso Però lei riesce a buttare giù Comunque l'orso balosso E allora Cioè se riesce Non solo è nerfato Ma la butta giù Anche il personaggio Meno forte della serie Cioè Per me è stato tutto gestito In maniera strana Cioè io quando ho finito la serie Sono rimasto A parte il musical Che io vi giuro Preferivo avere un attacco Di dissenteria Anch'io Sono io Anch'io Ma proprio di quelli fori Io non amo neanche i musical Quindi chiedo scusa A tutti quelli che amano i musical Magari era bellissimo Non comprendo io L'arte Chiedo scusa Però Allora A mille sub J-Taz A mille sub J-Taz Produrrà un musical Con Tobey Maguire E Mark sarà costretto A guardarlo Va bene A interpretarlo Sarà lui Tobey Maguire E non morirà Tra l'altro Tobey Maguire Io ho tre espressioni facciali L'unica due Non me lo faccio meglio io Attenzione No per chiudere la questione Kimpini Il fatto è che Rimuovendolo dall'ultima puntata Non cambia poi granché E quindi Se lo sono giocati In maniera così smaccata Facendolo perdere Per E ormai ce l'avevamo Poi il pubblico Se non lo mostriamo troppo Si lamenta Un'occasione sprecata Poi una domanda da farvi Andando avanti Ma prima Manca giusto Giulia e Vic Vai Giulia Buonasera Ciao Allora Visto che voi avete già detto Tutte cose interessanti E sicuramente molto giuste Non so se vi siete Soffermati Sul discorso Appunto Non udenza Rappresentazione Inclusività Eccetera Allora A me da un lato Ha interessato molto Da questo punto di vista Perché Vedere Supertizi O comunque Potenziali Supertizi Che non sono Perfetti Nel senso Che non hanno Tutte le cose Al posto giusto Non ci vedono Non ci sentono Tutti uguali Non si muovono In maniera Tutta uguale Secondo me È una cosa Molto interessante Perché Fa capire Che dalle difficoltà Più o meno grandi Che possono essere Nella vita Riusciamo sempre A trovare qualcosa Per riuscire Ad andare avanti Ci devono fortificare E non rendere deboli E quindi Questa parte qua Del personaggio di Eko Mi è piaciuto molto Tuttavia Secondo me Non è stata Approfondita Sufficienza Voi mi dite Ok Fanno una serie Su di lei Quindi lo facciamo Poi dopo A parte che Non è così detto Che se uno La vede qui Poi appunto La segua Nella serie dopo Perciò Avrebbero dovuto Dare un po' di più A riguardo Esatto Bravissimo Anche un po' di meno Vero Avrebbero dovuto Dare un po' di più All'interno di questa serie Visto che comunque Il tempo c'era Ma Mi è dispiaciuto Soprattutto Visto il percorso Che stanno facendo fare A Clint Ovvero che lui Progressivamente Perderà sempre Di più L'udito Quindi si ritroverà Da una condizione Di partenza Più normale Secondo i nostri standard Di normalità A una condizione Più come quella Di eco In cui dovrà Far fronte A questa A questo problema Perché per Clint Sarà una mancanza E farlo diventare Un qualcosa Che lo fortificherà Di più E visto che comunque Si chiama Occhio di Falco Sta serie Io avrei voluto Che il percorso Di Occhio di Falco Fosse Stato un po' più incisivo Nel senso Sentire L'ho trovata Certo che se non Glielo davano La gente diceva Ok ma l'apparecchio Acustico Ok ma ricordiamocelo E' stato così Per tantissimo tempo Però capito Andrea Perso anche la vista Nei fumetti Potevano continuare Ma alla fine Della serie Alla fine Della serie Cioè non viene fatto Più nessun riferimento E' così importante Che lui Dialoghi col figlio Minore Con la lingua Dei segni E' una cosa così Dolce E' una cosa così E' forse la scena migliore Bravissimo E' così Drammaticamente Dolce Tragica No Però poi basta Non ce lo ricordiamo più E quindi tutto il percorso Che dovevamo far fare Grazie al personaggio Di eco Occhio di Falco Visto che sta perdendo Progressivamente l'udito Ce lo siamo completamente Dimenticati Ed è quella la cosa Che a me Mi ha fatto dispiacere Di più in assoluto Perché ha una potenzialità Enorme Mancatissima Ti aggiungo Non c'è neanche una scena Abbastanza facilona In cui magari Mentre sta combattendo Lo perde Bravo E all'improvviso Non sa più cosa fare Non c'è neppure quello E' proprio una roba Buttata lì E come dire Stiamo sensibilizzando Sull'argomento Non è vero Prendi i cazzotti E poi la picchiano E basta Un pochino E quello Perché poi io Tra l'altro Un membro strettissimo Della mia famiglia Ha problemi di udito E quindi io Sono nata Avendo a che fare Con una persona Con problemi di udito Non dal linguaggio Non dal linguaggio Dei segni Però comunque Problemi di udito Quindi a me Ha sensibilizzato Molto questa scelta È chiaro che A me va a toccare Di più rispetto a una persona Che magari non gliene frega Un cazzo Quindi quando si vanno A toccare certe tipologie Di tematiche Non solo Ha il tra virgolette Problema in sé Ma anche coloro Che vivono accanto Alle persone Che hanno questo Tra virgolette Problema Perché può essere Anche una forza Appunto Poi è un po' C'è della serie Lo strumentalizziamo Un pochino Per far vedere Che oh Pure le persone Che non ci sentono Come voi Noi inseriamo All'interno Dei prodotti Del Marvel Cinematic Universe Però poi Who cares Alla fine Poi Sono le importanti Hai perfettamente ragione È la stessa cosa Che è stata fatta Con l'occhio Con il queerbaiting È la stessa identica cosa Lasciamo stare Ma voglio dire Ma anche la stessa Ok con la Traxuit Mafia Cioè io da este europeo Sono stato molto Preso Ma certo Ma certo Ma infatti Vogliamo il cosplay Eh ma io le tutte No Cioè manca poco Su Te lo aspettiamo bro Dai bro Cioè ma è sempre Il solito discorso Su certe cose Si può ancora Scherzare Perché effettivamente Non si è ancora entrato In quella tipologia Di sensibilità Che vabbè E altre invece Oh mio dio Tabù assoluto Allora cerchiamo Di inserirle però Lasciandolo sempre Molto in superficie Non è che dovevano Fare una serie Tutta sull'essere Non udenti Anche se Io voglio dire Cioè una serie Sempre su Disney Plus Un episodio È stato fatto Tutto Dal punto di vista Di un Non udente Ed è probabilmente La cosa migliore Che è stata fatta Nel 2021 Quell'episodio Di Only Murders In The Building Comunque Meraviglioso Meraviglioso Io non dico Che si deve fare La stessa cosa Ci mancherebbe Altro Però È importante Se tu me lo inserisci È importante Quindi non dimenticartene Soprattutto poi perché Lo inserisci Perché sai che è importante Quindi questo Mi hanno detto Che c'è stata una mezza scena Come quella che ho detto io Ma avete visto difficoltà Da parte di Occhio di Falco No esatto Infatti a me Avevano in mente Prima però Perde l'apparecchio Ma non Perde ma non cambia Ma poi subito Dopo il discorso Con Echo Lui si doveva trovare In un'altra Situazione Dopo Nella seconda parte Della storia Non nella prima Quindi nel senso Secondo me Quella è stata Un'occasione Decisamente sprecata Ma proprio a caso Per Non so Noia Per poco interesse Da parte Degli autori Per quanto Comunque Ok è un prodotto Molto carino Carino Che mi è piaciuto Carino Kingpin Cioè vado io lì Gli sputo in faccia Lo stendo Però è molto carino Sicuramente Molto carino Lo stendi Ma si risolleva Non gli fa niente Certo 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 Esatto È una scena Che mi piacerebbe vedere Vero Vero Se Vincent Donofrio All'ascolto Sì sì All'alena di Golià In qualche sito particolare Però vabbè In tempi di covid Non si può Scusa Victor Dovevo interrompere Questa cosa Eh? No in tempi di covid Non si può sputare No vabbè Io sono a posto Sono negativo Solo per quello Non sono più interessato Nel problema Sì sì Su me Vittor si è perso Scusate Io con lo sputo Ho perso io Mi hai detto di parlare Non l'avevo sentito Sì era il momento Del esprimere la tua opinione Da riguardo Ah E no Stiamo fantasticando Sullo sputo Quindi No 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 Ho proprio perso La frase Nel senso che Adesso si è incartato Stringer Non l'ho proprio sentito Sì certo Si è incartato Stringer Secondo me È un po' più Io sono un po' più Sulla linea di quello Che ha detto Rob Nel senso che Magari non è la migliore Cioè se dovessi dire Qual è la migliore VandaVision Era quella forse Più sperimentale Interessante Però Non ha mantenuto la coerenza Cioè io me ne faccio Veramente poco Di una serie Che inizia bene E finisce In maniera deudente Perché Se l'ultima puntata Mi vanifica Tutto quello Che è stato fatto prima E allora Quello che ho visto prima Cosa serve Non serve È un esercizio di stile Fatto anche bene Ma Non lo so Questo invece Non ha mai Raggiunto Un grande apice Però È anche vero Che è andata sempre Sullo stesso livello La puntata finale Sì La puntata finale Non mi ha dato L'idea di essere deludente Perché era perfettamente In linea Con quello che era successo Recentemente Sì Puoi sindacare Su Kingpin D'accordo Volendo Io non sono così drastico Come dicevo prima Con 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 il personaggio Secondo me Qualcosa interessante Ce l'ha Non è quello magari Che uno poteva aspettarsi Ma Io personalmente Non mi aspettavo Certo quello di Donofio Ma aspettavo una cosa simile Io ero pronto A vedere un po' ridicolizzato Perché è un prodotto Marvel Fanno così C'è un cazzo da fare ragazzi Cioè Dopo 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 quasi 15 anni Possiamo anche iniziare Ad ammetterlo Non succede niente Sì Hanno tanti problemi Questi prodotti È una serie Che comunque L'ho trovata Io l'ho trovata Non sono d'accordo Con il dire Che siamo un film diluito A me sembra A me sembra avere Un carattere da serie Fatta finita Se non fosse per il numero Di episodi Che siccome è un po' Un po' Basso Io avrei preferito Un 8 o 9 episodi Però Ce la facciamo andare bene I personaggi Mi sono piaciuti I personaggi di Clint Barton È Analizzato abbastanza bene È vero che Effettivamente La cosa dell'apparecchio acustico Gli hanno dato Una certa visibilità Per due puntate E poi se la dimenticano Completamente Almeno un epilogo Sulla questione Me lo potevano dare Senza contare Che l'hanno fatto A momenti Riparare da un lustro a scarpe Quindi magari No Potevano Potevano magari Far notare Che non funzionava benissimo No invece L'hanno portato Dall'unico tizio Che ripara le cose Nello scantinato Che le ripara meglio Dell'azienda stessa Ma comunque A parte quello Kate e Clint Mi sono piaciuti Come rapporto E continuo a ribadire Che è molto più Buddy movie questo Rispetto a The Falcon Winter Soldier Che aveva l'intenzione Dichiarata di essere Un buddy movie Ok Dato che nessuno Ne ha parlato Te lo chiedo Cosa ne pensi Dei larper Io sono stato L'arper Ho fatto diversi larp L'ho trovata Una scelta divertente Anche perché Comunque questi sono Personaggi secondari Comunque Anche piuttosto simpatici Secondo me Con la questione Dei larper Hanno voluto fare Un po' quello Che diceva Andrea Con la questione Della Randy Fraction Aya Hanno preso Quei personaggi E gli hanno resi Gli inquilini simpatici Del condominio Che qua non c'è Fondamentalmente Ma è un po' la stessa cosa È anche proprio Griggs Che è uno dei pochi Di cui conosciamo il nome È proprio presente Nei film Esatto Se voi leggete quella run Sono mi pare 22-25 uscito Una cosa del genere Vi rendete conto Che Non è solo ispirata È rielavorata Perché di fatto Le cose che succedono Sono molto simili Sotto certi punti di vista Il rapporto tra Quello intercate È completamente diverso Per l'amore del cielo Esatto È veramente bellissima È ripresa anche Nei colori Nella fotografia Quindi Credo che sia forse Una delle storie Meglio adattate Che abbiano fatto Finora Perché ad esempio Infinity War E quant'altro C'è giusto il nome Ma poi non Cioè tra l'altro Infinity War Infinity War Non è neanche Cioè è solo il nome Si riferisce a un altro ciclo Che è sempre collegato Ma non è Infinity War Era Mi pare fosse Infinity Crusade Non mi ricordo qual era Però vabbè Comunque Era un altro Era un altro Ciclo ancora Quindi Forse questo è uno Di quelli meglio adattati È quello di cui si sente Costantemente L'ispirazione Anche nelle cose Che succedono Non solo Nel tono Quindi A me personalmente È piaciuto molto Come hanno trattato il tutto Concordo su Echo Non è un personaggio Così pessimo Nel senso che Se non ci fosse Una serie su di lei Direi solo Ma è un personaggio Che lascia il tempo Che trova Ma sti cazzi Ma visto che è L'introduzione di un personaggio Che avrà uno show Completamente suo Io continuo a pensare Che non sappiano Cosa fare Con certi personaggi Cioè sembra che Ormai non abbiano più idee Per le serie Perché vogliono Cioè La serie Volevano proporre la serie C'era il rumor Sulla sorella di Sean C Che adesso io dico Ma chi cazzo se ne frega Ma obiettivamente Ma cosa me ne frega Di quel personaggio Già era insulso nel film Devi farci su una serie Ecco la stessa identica cosa Ma perché la fanno Perché è un personaggio Femminile Perché è borderline E perché è non udente E quindi Devi fare la serie Su di lei Perché ho capito Però poi nella serie Di Okai Non è un personaggio carismatico La questione del fatto Che sia sorda Non è minimamente Approfondita Potrebbero approfondirla Nella serie Va bene D'accordo Però Mi dovevi dare Un'introduzione sensata Al personaggio Perché eccezion fatta Per quel flashback Che vediamo Nella terza puntata Non è che spingano Poi più di tanto Sul fatto che lei Sia non udente Che è quello Che diceva Giulia poco fa Anche il flashback Lì ti fanno vedere Che lei Come nei fumetti Dovrebbe essere in grado Di prevedere Le mosse dell'avversario Ma non viene Assolutamente Per dire È un personaggio Che ha una È quasi come Taskmaster Ma in maniera Differente Però più o meno Quello che fa È grosso modo Quello che fa Taskmaster Anche se è buttato giù In maniera diversa È la caratteristica Principe Del personaggio E non ne fai Quasi menzione Cioè a me non me ne frega Un cazzo che tu Me la accenni Nel flashback Questa Quando combatteva Doveva iniziare A tirare le frecce Come Clint Barton Doveva prendere In contropiede Kate Bishop A quel punto Io avrei pensato Wow cazzo Cioè tu facevi vedere Che le prendeva Un po' Solo per farsi Attaccare E subire L'attacco E capire Come replicarlo Se mi avessero fatto Una cosa del genere Io personalmente Non dico impazzito Ma mi sarei Sicuramente Entusiasmato di più Per una serie su Echo Adesso Ditemi Che cazzo c'è Da raccontare Su questo personaggio È come se facessi Per dire Paradossalmente Paradossalmente Vorrei di più Una serie su Jack Duke Sì Assolutamente Come ha detto Rob È un babbo di minchia Ma a parte il fatto Che hanno preso l'attore Che ha la più grande Faccia alla cazzo In senso positivo Del mondo Non so se lo sapete Ma è Lalo Salamanca Lalo Salamanca Ha una faccia Proprio da A sberle di dorso Ma io amo Il personaggio È un personaggio Macchietta Però io vi giuro Tra tutte le macchiette Che ci avevano proposto Finora nell'MCU È una delle più divertenti Perché Completamente a caso Si mette a Sbaragliare da solo I nemici Combattendo Col braccio sul fianco Sul fianco Angard È fantastico Bellissimo Infatti Clint Che dall'albero Guarda tutto Guarda sotto E dice Moriremo tutti Gli ha ucciso Ti ho capito Io piuttosto Datemi una serie Su Jack Duke Perché è infinitamente Più interessante Di Eko Che cazzo La cosa È quello che dicevo prima Hanno messo anche La cosa romantica Di Eko A parte che È finita lì Porca Ma poi veramente Non me ne fregava Ma perché Non ho avuto modo Di interessarmi Sì non ti fanno vedere niente Piuttosto quel tempo Me lo usavi Per fare qualche scena In più significativa Per dare qualche profondità In più a qualche altro L'hanno gestita L'hanno gestita a cazzi di cane Possiamo dirlo Giusto Sì Sì Scusate Il discorso che Il fatto di essere non udente È una forza Non è una debolezza E poi lei perde sempre Il consentino Perché lei batte Ma non lo vediamo Secondo me non è inteso È non udente E quindi perde Ma è inteso È non udente Ma in ogni caso È in grado di combattere Anche lei È quello A un certo punto Lo sta per uccidere Verdevil non ci vede Però è fortissimo Capito Nel senso Però c'è ancora Una cosa su Elena Belova A parte il fatto Che Florence Pugh Può calpestarmi Quando vuole Assolutamente Ma insieme anche A Ellie Stephen Uno per gamba Ma tra tutti Possono lasciarmi per terra Ridotto a un sacco di merda Va bene così Ma non è quello il punto Il punto Se vogliono Disponibile Il discorso È che Elena Belova È un personaggio Infinitamente interessante Da un punto di vista Della caratterizzazione Perché ha espanso Questa serie La caratterizzazione Che già abbiamo visto Nel film Però innanzitutto Mi fa Cioè Mi si continua A proporre Un sottomondo Televisivo Che continua A non incastrarsi Per bene Con i film Volevo chiederlo anch'io Nel trailer Di Doctor Strange In The Multiverse of Madness Si nomina Quello che è successo In Wandavision Sì Ma io ci gioco Il coglione sinistro Che oltre a quella citazione Non si andrà Ok Qui Tu ti dici Ma lo vedi anche nel trailer Non mi interessa Quello che è successo Esatto Però in Okai Tu ti dici Eh ma è collegato A Wandavision È collegato A Black Widow No Cioè o meglio Non è che è collegato È Black Widow Che ha preso Un personaggio interessante E a calci in culo L'ha buttato nella serie Ma non è un vero e proprio collegamento Perché se non ci fosse stato Black Widow Questo personaggio avrebbe funzionato tranquillamente Ma non è che se lo toglievi eh Non è importante Se toglie l'Elena Non cambia niente Nella serie E infatti Bravo Volevo chiedere Dove vuole andare Ma per Eleanor La questione occhio di Falco Diventa problematica Peraltro Credo L'unico dialogo scritto Veramente male Della serie Nella quinta puntata Quando lui si presenta a casa È Quindi Eleanor Chiama La contessina Serbelloni Mazzanti Viene dal mare Per andare a prendere Yelena Che nel giro di un giorno È lì Ma non è solo quello Semplicemente Non ha un cazzo di senso Che Cioè L'hanno collegata male Perché non ha senso Che Cioè Il senso Era La scena Un po' Scusa di Black Widow La contessina Serbelloni Mazzanti Viene dal mare Va da lei E dice Devi uccidere Occhio di Falco La questione Della madre di Kate È completamente a caso Non doveva esserci Potevano diventarsi Qualcos'altro Perché Non capisco In che senso Possa accentrare La contessa Serbelloni Infatti È diventato Un'intermedia Non ha senso È una retcon È una retcon Ma non è che Ti posso dire una cosa A me non ha dato neanche L'impressione che fosse Intermediale Mi ha dato l'impressione Che abbiano cambiato Le cose in corsa Perché Non viene mai nominata Vuoi che te lo dica? Vuoi che ti dica Cosa è successo? Non si sono parlato Infatti Stavo per dirvi Secondo Secondo alcune indiscrezioni Sembra che Nessuno sapesse Dell'altro Non lo sapevano Lei è stata È stata ingaggiata Per due motivazioni diverse La motivazione ufficiale Diventa quella della serie Ma guarda che Non si sono parlati Continuano a fare Cioè A me è questo Che è una fastidio L'unica che sapeva tutto Era Florence Piug Quindi nel mezzo E lei ha detto Guardate C'è con la contessa In questa serie Non lo mettiamo Ma non è possibile Che costantemente Si mancano I pochi collegamenti Che ci sono Diventano inutili Perché non si parlano Perché un team Sa una cosa Un team ne sa un'altra E non si incastra un cazzo A me è questa Sembra fatta in Italia Sembra gestione italiana Proprio Io avrei un'altra Avrei un'altra domanda Perché Poi sì Per quanto riguarda I personaggi Tutto molto piacevole Però a livello narrativo Qualche cosina Che non è andata Per il verso giusto Secondo me c'è L'orologio Eh bravo Scopriamo alla fine Scopriamo alla fine Che era l'orologio Della moglie Di Occhio di Falco Che cita La Mockingbird Fumettistica Quindi credo Che a livello MCU Mimo sia lei Ma la serie inizia Con la mafientuta Che arriva all'asta E vuole l'orologio Nient'altro Esatto Poi scopriamo Che la mafientuta Lavora per Kingpin Quindi Sto Kingpin L'orologio Lo voleva Perché Sarebbe bastata Una spiegazione Del tipo Contiene all'interno Dei segreti Dello shield Il codice Per utilizzare Il supermissile Che si trova Cioè bastava veramente Una cavolatina Da spy moon Guarda Secondo me Non era Kingpin Cioè non c'è un momento In cui Ma è la mafientuta Però Però è la squadra Sotto il comando Di Echo Ok Però la domanda Vale lo stesso Perché voleva l'orologio Perché Sull'orologio Ci devono essere Le info Che lei trova I nomi Della famiglia Di Di Ronin E lui Lei vuole vendicarsi Ma sono ragionato adesso Non è che No no In realtà funziona E sei stato il primo A rispondermi E io me la faccio Anche andare bene Ma in realtà C'è un utente Che mi ha suggerito Una cosa Io avrei preferito Mi ha suggerito Questa cosa qua Che siccome sarebbe stata Una svolta di trama interessante Perché si sarebbe collegata Anche a serie successive L'idea è che Quell'orologio Avesse a che fare Con I codici di accesso Per una sezione Secreta Nella Nella Stark Tower Dove ci Dove ci sarebbero state Delle armature Di Iron Man Non ancora trovate Il che si sarebbe Tranquillamente Potuto ricollegare Ad Armor Wars Esatto Avrei preferito Una cosa Sarebbe stato Ancora più bello Se Kingpin Avesse comprato L'Avengers Tower E Kingpin Vorrebbe Un orologio Era fantastico Ma Tiziana Ha perfettamente ragione Perché in effetti Lei quando prende L'orologio Poi scrive Il nome Dei familiari Di occhio di falco Quindi Sarà per quello Certo anche lì Una mezza frase Sì bisogna ragionarci Un po' È vero Funziona Funziona Però è comunque Rimane una supposizione Sì Assolutamente Cioè Mettendo Sieme È una cosa Unici puntini Sì 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 È vero Unici puntini Però L'orologio A me sembra quasi Un McGuffin Ovvio Che lo è L'altro giorno In stream D'Andrea Abbiamo detto La stessa cosa È quello Perché se tu Levi l'orologio La serie Nemmeno inizia Perché Kate E Clint Non 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 si incontra Il problema Narrativo però A posto che voleva essere Una serie leggera È che un po' Tutto sembra un McGuffin Cioè gli eventi Avvengono sempre Un po' Per caso In una puntata C'è da prendere Il costume Nell'altra Le frecce Le han presi I poliziotti Che poi in realtà Scopriamo che lui Poteva farseli in casa Con grandi Diver Lui se le fa in casa Però ad esempio Una cosa che mi ha fatto Veramente strano È nell'ultimo episodio Quando lui si fa le frecce C'è una scena In cui ci sono Clint e Kate A casa dell'amico Che guardano Il telefono Con Kingpin Poi una scena Di loro due Che stanno in metro E poi loro due Che tornano a casa E costruiscono le cose E quindi mi sono domandato Ma costa metro? Dove sono andati? E però c'è la scena tagliata Che faranno vedere Nel documentario Quello che esce Tra due settimane C'è una tagliata Di loro che vanno Tipo al supermercato E hanno rilasciato Una foto di questa cosa E loro che comprano Le cose per fare Le frecce E per me non ha senso Io quando l'ho visto Ma che cazzo Stai a casa Esci e ritorni E che hai fatto Nel mezzo Quello Niente Ah ok Sì però appunto Era la problematica Principale Di un episodio precedente Cioè sembra tutto Un po' A casaccio Però ripeto Però secondo me Rispetto a tutte le serie precedenti È veramente l'unica Che mantiene coerenza Dall'inizio alla fine Sì però è una coerenza Mediocre secondo me Allora sì E purtroppo è una coerenza Siamo in una media Hai perfettamente ragione Ma non c'è stata Una puntata In cui aveva pensato Cristo In tutte le serie Che ora arrivate C'è stata almeno Una puntata In cui dicessi Ma perché E comunque io vorrei Lo spin off Sui due tizi Miniaturizzati Della Track suit mafia Che sono stati portati Via Tu mi tiri fuori Un'altra cosa Perché abbiamo parlato Dell'assordità Di occhio di falco Non utilizzata Ma c'è un altro elemento Di caratterizzazione Del personaggio Che palesano Credo Giusto all'inizio Ovvero Lui Si porta dietro Lo spettro Di Ronin Anche perché Ha ucciso Tanti criminali In maniera Molto spietata E sconsiderata Poi arriva la serie E Quelli della Track suit mafia Li uccide Comunque in maniera Spietata E indiscriminata E la cosa peggiore Che ce li hanno anche Caratterizzati Come simpatici Affabili C'è la gag del concerto Con Kate Sì però Quelli miniaturizzati Con il gufo Che li porta via Le bombe in faccia Gli tira Mentre so lì A partire Quello che guida Il camioncino Con lui che dice A Kate Sì sì Lanciagli questa E gli esplode Io ho rivisto La scena più volte C'è proprio La fiamma Che investe Il conducente Gli ammazzati Allora la differenza C'è alla fine Una marea di gente Muore Ti dico Non sarebbe un problema Se non avesse detto E no le cose Che ho fatto Con Daronin E qual è la differenza Comunque Daronin Ha ucciso criminali Era vendicativo Forse Allora La differenza Che era la cartideria Quindi La differenza Che non era necessario E quindi L'omicidio freddo È migliore No Se proprio la vogliamo Scusare È una questione di forma E basta No diciamo che Qui Non era per autodifesa Sì Diciamo che Se non faceva così Questi lo ammazzavano Lì invece Andava a cercarli Occuratamente Ma insomma Sono quattro pippe in croce Gli tiri la freccia alla gamba Come hai fatto altre volte E tutti contenti Ma no ma Sul fatto che sia un po' Un problema Che sia un po' Squilibrata come cosa Squilibrata nel senso Che non c'è equilibrio Nella cosa È anche vero Però diciamo che Non è che lui Si mettesse A pianificare Come faceva Quando era Ronin Il modo di andare E uccidere Queste persone Quindi È un attimino diverso Il sentimento Con cui lo faceva Perché comunque Anche in Negli altri film degli Avengers Non è che si sia mai fatto Tutti questi problemi A seccare le persone È verissimo Ripeto A me il problema È balzato Solo quando In uno dei dialoghi Introspettivi Con Kate Ti dice Che l'ho ucciso Ma lì Sai cosa Era l'efferatezza Con cui lo faceva Era proprio Il passare le notti A studiare Su come seccare Questi Che far esplodere Una bomba In faccia a uno Non è proprio Una morte Gli altri Con il gufo Che li mangia Io Io la vedo più Come una cosa Del tipo Oh io non l'avrei fatto Se è venuto a rompermi Il cazzo Sì 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 Dicevo che ha tenso Nell'ambito Dell'autodifesa Cioè Non poteva Per il gufetto Nella serie Arrow C'è proprio Questa Evoluzione sua Lui parte Come vendicatore Poi c'è una stagione Cioè lui smette Di uccidere Poi c'è una stagione Ancora dove dice Sì però io delle volte Devo uccidere E quindi poi ricomincia E poi si prende di uccidere Questi arrivano qua Che ti vogliono investire Dicivo senti Vattene a fanculo Gli ha dato 5.000 possibilità Se tu noti All'inizio Nelle altri scontri Non è che li ammazzasse Quando poi questi arrivano lì A muso duro Lui dice senti Beh ho capito Però sul camioncino Non erano a muso duro Cioè li fa saltare in aria C'è un attimino Ma anzi Sono ragazzi Li fa ammazzare Li fa ammazzare Dalla ragazzina Che sta addestrando Che reagisce Con una simpatica gag Io adesso non è che voglio Il dramma interiore Sofisticato Però un minimo di Ok Se la prossima volta Mi avverti Però c'era un bellissimo cane In questa serie Quindi Si è vero Quanto il cane Io vorrei dire una cosa Io onestamente Mi sarei aspettato Di vedere Pizza Dog Che si incontrava Con il cagnolino di Elena Perché nella scena post credit Arriva il cagnolino E invece no È la stessa cosa Della contessa Secondo me Quella scena L'hanno cancellata Non esiste quella scena lì In realtà c'è uno spin off Titti Sta arrivando una nuova serie Marvel Sul cane La contessa Sì Sul cane Esatto Sulla falsa riga di Liglia Il vagabondo Sarà un bel comedy O live action Come quello Trecento No live action Non è lì Posso dire Mi fanno sapere Dalla chat Che è una serie Ah grazie 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 mille Che è una serie Ok Meno male Non è una serie Ah ok Che hanno Hanno perso l'occasione Perché io L'introduzione di Pizza Dog L'avrei mantenuta Pressoché identica Come nei fumetti Perché È vero Ha una Diciamo che gli fa scattare un click Perché lui Mentre è attaccato Alla tracksuit mafia Il cane viene investito E lui lo porta Da veterinario Nonostante lui non sape Di chi è quel cane È un randaggio E lui fa di tutto Per far sì che il cane si salvi Perché È preso Dallo sconforto Per la piega Che ha preso la sua vita Non vuole lasciare morire il cane È una cosa simbolica Secondo me hanno perso Un po' l'occasione Perché col fatto Che c'è il tema Della redenzione E tutto Mi sarebbe piaciuto Che lui Avesse portato Il cane veterinario Che da quel momento Vossi diventato il loro cane Se avessi stato Ancora più coerente Col discorso di redenzione Che ha affrontato nella serie Un po' però Gli episodi servivano Sì però Scusate È drammatico Vedere un cane Che prima Ha i due occhietti Tutto a posto così E poi perché viene investito Da una macchina Perde un occhio Dai Si sta parlando di esseri umani Si sta parlando di cani Ma perché volete il buonismo? Su gli animali Sì per me è di essere umani Ma è una serie Disney Che esce a Natale Vite C'è un cane Che rimane cieco Ma appunto Io posso dire una cosa Ma non vi siete rotti il cazzo Di questi Sentimenti No sui cani no Ma ti siamo fatti andare bene Kingpin Quindi niente Cane investito No 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 Sei andato a casa Giusto Ma si sa Poi scusami Giulia Perdonami Ma per aver essere ridotto così Questa cosa gli sarà già successa Quindi Lo so C'è una cosa che ho letto prima in chat Che mi ha fatto un po' male al cuore Vai Di un ragazzo che ha scritto Forse mi pare Durante il discorso di Giulia Sul fatto che non è stata approfondita La sua Penso volevo rispondere pure io Credo di aver capito E un ragazzo ha scritto Ma sono supereroi Chi se ne frega No Di queste cose Di approfondire Ragazzi vi giuro Leggetevi qualsiasi Randecente fumettistica Per capire che Supereroi E tutto quello Che gli gira intorno E non le mazzate E i cazzotti Tutta la profondità Per ogni ambito Della vita Dei sentimenti Del Di come sta uno In quel momento Della depressione Di un amore finito Per qualsiasi cosa C'è un fumetto Sui supereroi Che parla di questa cosa qua Non sono soltanto Rob Sì No Che poi credo Credo anche Il senso del messaggio Di prima È una serie Allora Sì Siamo qui a parlarne Io vi giuro Che se non fossero Così profondi fumetti In generale Non solo quelli Della Marvel Anche I topolino Hanno un sacco di cose Che colpiscono Per altri motivi I manga Tutto quello che vi pare Se non ci fossero Queste profondità Ma non me ne fregherebbe Niente di vedere uno Che è stato morso Da un ragno E spara delle cose Dalle dita Poi proprio Spider-Man Poi proprio Spider-Man Cioè hai tirato fuori Proprio l'esempio Che è il primo supereroe Con i super problemi Cioè nel senso Sono i super problemi Interessanti Dei supereroi Ma anche il fatto amoroso Per tanti In alcune run A me ha dato fastidio Vedere sempre lui Che va dalla gatta nera E poi c'ha l'amore Con Mary Jane E poi con queste Ma è proprio quello È proprio lui Con la testa di cacchio È anche bello Vedere lui che sbaglia Che non sa mai dove andare Che Ma anche un nemico Quando tu approfondisci Un nemico Di vederlo solo Che sbudella la gente Non me ne frega niente Io voglio vedere perché lo fa Perché ha iniziato a fare così Sì voglio l'empatia Se non ci sono Questi aspetti profondi Io sto guardando Della gente col costume Guardo i Larper Allora proprio nello stesso Che anche lì c'è il dramma Però E anche lì c'è il dramma Infatti sono stati incredibili Concludendo questa cosa Che tipo il commento Era tipo A chi interessa Vedere Certe situazioni In una serie di supereroi Tutti spero Secondo me Lo scopo di ciò È anche far sì Che magari Anche per dire Dei bambini Che magari hanno qualche problema Può essere magari Non senti bene O qualsiasi altra cosa Non ti senti diverso Cioè nel senso Tu vedi tutti dei supereroi E li vedi magari Solo perfetti E dici Cazzo Io non posso esserlo magari E invece Gli dai Un sogno Tra virgolette Qualcosa di carino E dici Anch'io posso Potrei esserlo Non lo so È una cosa Che mi è sempre piaciuta Carina Il motivo per cui È bello Hanno introdotto Questo problema Questa tematica Come diceva Giulia È bello Che mi fai Capire Le problematiche Le problematiche Come uno si rialza Da questa cosa Ci deve essere L'insegnamento La cosa che ti tira su Dalla puntata E dal discorso Non c'è stato niente Da questo punto di vista Sì esatto Perché purtroppo Non siamo tutti perfetti Senza problemi E quindi è vedere poi Alla fin fine Solo gente perfetta Che si tira dei cazzotti Viene a noia Dopo un po' E altrimenti Non credo Chiunque di noi Ha un problema Ha una mazzia nera Nella propria vita Ovvio E a volte queste opere Ti fanno rispecchiare In queste situazioni Ti danno anche uno spunto Per come puoi Passare tu Quel momento brutto E aggiungo È veramente vera Questa cosa Che hanno aggiunto Le storyline Anche al wrestling Stavo per dirlo Stavo per dirlo Visto che l'ho già citato prima Nel wrestling Mica si mazzola Una caso C'è il buono Il cattivo I tradimenti Gli amori Le amicizie Ed è per quello Che poi stranamente Quando parlo di queste cose Mi concentro sulla trama Che invece Negli ultimi giorni Ho scoperto essere Sopravvalutata Ma è una serie Mattia È una serie Va bene Va bene Domanda molto Molto semplice A voi È piaciuto L'accento di Elena Cioè io l'ho amato Personalmente A me sembra Che esagerato rispetto al film Però Esatto Molti si sono lamentati Perché l'hanno accentuato tantissimo Però a me è piaciuto Non so in originale Come sia onestamente Io l'ho visto in originale E mi ha rapato Quindi va bene Perfetto E non perché era fatto male O altro Vi spiego In Vanda Vision Il cambio di accento Era fondamentale Per la trama Quando Vanda Era nella cupola E quando Vanda Era fuori Lì Avrei voluto qualcuno Che mi facesse capire Che c'era un cambio Concordo Ma lì il problema È che non l'hanno mai fatto Hanno sbagliato in origine A non mettere mai Un accento Però io ci ho pensato E ho detto Cavolo Potevano farlo lì Che era fondamentale Per quello che stava succedendo Perché Poi vabbè In realtà Non me ne è fregato niente Ho detto vabbè Sono disdialoghi In Black Widow Se tu vuoi Se pregare tanto Su Disney Plus Se vai a rivedere A me sembra un pochino Meno marcato Cioè qua L'hanno proprio Marcato tantissimo Sì era marcato tanto Sì Cioè era quasi Quanto quelle Della Della tracksuit mafia A momenti È molto caricaturale Voglio propormi a Disney Come consulente Per le scene col cibo Perché porca puttana Do mangiare I maccheroni al formaggio No esatto Con la roba piccante Sono Illegali Veramente Ma siamo noi che avevano Troppo buon gusto Vi aggiungo una cosa Riguardo la serie Che nessuno Nessuno di noi l'ha detto Non so se ci avete fatto caso Ma Cioè è un dettaglio Che hanno inserito Però senza senso Perché Clint Utilizza due telefoni Nella serie Utilizza un telefono Con il touch screen Quando deve parlare Con la moglie ad esempio Ma utilizza un telefono A conchiglia Quando deve parlare Con Kate E io quindi L'ho ipotizzata L'ho ragionata come Le questioni Avenger Vanno su Cioè sul coso A conchiglia E beh Basterebbe Sempre che disattivano La sim No devono sempre Spezzare il telefono E buttarlo È più facile Per questo motivo Che Samsung Ha fatto quello nuovo Il flip È chiaro Se fai così Non succede niente Esatto Solo per fare Esattamente Esattamente E secondo voi Da questa serie Poi dove li vediamo Clint e Kate Se li vediamo insieme Intanto O se li vediamo Lei di Young Avengers E lui Boh Io vorrei una seconda Perché secondo me A fine show È vero che Kate È maturata Ma non è già pronta A prendere le redini Del personaggio No Quindi secondo me Ha bisogno Anche Può essere Che siano partner Effettivamente Sai perché ti dico Di no Perché comunque Una cosa che Non è stata fatta notare Ma questa serie Non parla mica Di lui che si ritira Lui Cioè la moglie La moglie gli parla Lui parla La moglie del fatto Che sta seguendo un caso Come se fosse una cosa normale Non è che lei dice Ah Di nuovo Dopo tanto tempo Io penso che lui Non abbia mai smesso Di lavorare Quindi io non penso Che ci siano Delle redini da prendere In realtà Al massimo collaborare Ma le redini da prendere Non credo Io mi aspettavo Una cosa del genere Ma io penso Che i piani profili di Falco Non siano Editori o di Merzi Io penso che Finché Renner Non è andata A vera fanculo Lo continuo Però l'unica cosa Che a me fa pensare La questione Del passaggio di testimone È la frase finale Quella in cui Lei deve crearsi Il suo nome E Clint dice Ho un'idea E ti fanno vedere Il logo di Occhio di Falco Con il nome Io l'ho interpretata Come quello sarà Il tuo nome Tu diventi Ok Però io Sono Ok Però tieni conto Una cosa Titti Alla fine Del finale di serie Lui ha un costume nuovo E tu non Non introduci Un costume nuovo Un personaggio Che poi si ritira Magari può anche essere Ho un'idea Poi c'è il logo E quell'idea Non te la vuoi Bruciare adesso A me è ricordato tanto La frase Avengers Uniti Tagliata da capo Sì È vero Una cosa Che sentirai Ma non adesso Mi ha dato sempre Quell'idea lì Anche perché poi Se tu Per tutte le serie Per la fase 4 Che la fase 4 Fondamentalmente È il reclutamento Dei nuovi personaggi No Possiamo rassumere Se per ogni personaggio Tu porti avanti Il ragazzo giovane L'altro muore Poi diventa Rindondante Tutto quanto Cioè ci sta Che uno Almeno rimanga Della vecchia guardia O più di uno Perché se no Sono tutti uguali Poi il personaggio nuovo L'altro si deve Dalle balle E sono tutti uguali Peraltro non so se avete fatto caso Magari una Riri Williams Era Ironheart Una Thor femmina She Hulk Adesso c'è Kate Per Okai Sempre Yelena Per un'altra vedova nera Quindi Se dovessimo È vero Se dovessimo Se dovessimo pensare Comunque A Un nuovo gruppo Di Avengers Basato Sull'identità Di quelli Delle prime tre fasi C'è comunque Quasi una propensione Verso una sorta di A-Force Sì Anche la figlia La figlia di Ant-Man Sì Vero Ma infatti Secondo me Per quanto riguarda Gli Avengers Cinematografici Cinematografici Vabbè Non punteranno Ai rincalzi Credo Punteranno Su personaggi Tra virgolette Puri Quindi uno Strange Ancun Blade Shang-Chi Shang-Chi Per quanto riguarda La rappresentazione Doverosa Femminile Direi Capitan Marvel Ce la cucchiamo Che piace o meno Miss Marvel In Capitan Marvel 2 Che poi è Marvel La immagino anche caratterizzata In maniera leggermente diversa Già Shang-Chi È una diversa Esatto Sono d'accordo È la più simpatica Probabilmente L'unico personaggio Per quanto riguarda L'eredità Che vedremo Immaginando Un team di Avengers Con 5-6 elementi E Black Panther Per forza di cose Eh beh Perché Alla fine Non ha mai fatto parte Degli Avengers In veste ufficiale Black Panther È sempre stato un supporto È amico di Steve Esatto Essenzialmente Perché Ma il semplice fatto Che lui ha già Ha già un paese Da proteggere Non gliene è frega Ma in Europa Gli stati in America Però Poi mi sto facendo Uno scenario Che magari non esiste Però vedo Gli Avengers Al cinema E su Disney Plus Gli Young Avengers Sì E magari anche Volendo i Thunderbolts Della contesta Bisogna capire anche Gli X-Men In futuro Perché gli X-Men Da quello che ho capito Hanno idee confuse Alcuni vorrebbero i film Altri vorrebbero le serie Quindi Il problema di X-Men È che è un prodotto Che si è sempre basato Su una metafora Sul razzismo Metafora sul razzismo Che deriva Da anni Di repressione Dei mutanti Metafora Questo razzismo È una metafora Sì però È No è proprio il razzismo Non è una metafora Perché comunque Loro sono Tra virgolette Una Attenzione No È una metafora Perché Ti prende Un razzismo Cioè Su qualcosa Su delle persone Che non esistono In tanti non esistono Metafora Che è un concetto reale Appunto Però è sempre Razzismo Sì Ma è una metafora Del razzismo Specifico Contro i neri Negli Stati Uniti America Quello intendo Verso le minoranze In generale Xavier Xavier E Magneto Sono stati presi Presi Come spunto Martin Luther King E Marco Mix Quindi era un po' Specifica Negli anni 60 Era molto specifico Il riferimento Sulle minoranze Però si riferivano Moltissimo Al razzismo Negli Stati Uniti America Verso la comunità nera Era proprio Quello il riferimento Però al dia di questo Il razzismo Deriva da Anni di repressione Dei mutanti Tu sti cazzo Di anni di repressione Dei mutanti Quando è che inizi A mettermeli Perché non puoi Introdurre È il motivo Per cui secondo me Alcuni vorrebbero La serie tv Per avere un Un Una crescita Ma comunque però Mark deve durare anni Capito Cioè No no certo Ma secondo me O fanno un time skip Nel senso Tutto è successo Semplicemente Si sono fregati Di quello che c'è Sotto nel mondo Ma sarebbe terribile Oppure Non lo puoi dare Per me Semplicemente Non ci sarà la tematica Del razzismo Saranno Se seguono Se seguono La classica dinamica Saranno persone Che all'improvviso Sviluppano poteri Lo fanno senza controllo Rischiano di ferire gli altri Ah ok Siete degli stronzi Scusate Possiamo vedere La nascita Del razzismo Nei confronti Sì sì La nascita Sì ma Perché ti dico Secondo me L'occasione che avevano Era Quello che diciamo Da anni Quando le persone Sono grippate Alcuni di queste Si vedono risvegliare Un gene Che c'è sempre stato Ma che era dormiente Era perfetto In ogni cazzo di film In ogni film Tu mi metti Tipo un tizio Che è in un locale E alla televisione Vedi delle sommosse Nei confronti Per dire Paradossalmente In Vandavision Tu avevi Hayward Che poteva essere L'emblema di questa cosa Lui odia I blippati Perché Perché i blippati Hanno sviluppato dei poteri Potevi metterla già lì La cosa Potevi Con la prima serie Potevi già svilupparla lì Ma poi avresti rovinato Il villain preferito Di Matioschi Eh infatti Aveva avuto un motivo In effetti E' fatto ricordare una cosa Vic Che Un ragionamento Che avevamo fatto Ai tempi di Vandavision Era che Monica Rambeau Era diventata Aveva ottenuto i poteri Passandosi attraverso Lex Ma perché Era anche blippata Sotto tornata Esatto Quindi magari C'era tipo l'occasione Per farlo Giusto Magari se lo tengono Per Doctor Strange Esatto Magari Vandava Fa qualcosa Che attiva tutti Allora Esatto Quello che molti pensano È che lei In Doctor Strange Non dica No more mutants Più mutanti Esatto Sì però Il fatto Perché lei non sa Che cos'è Immagino Però non riesco Non riesco A figurarmi Una situazione Per cui questa Dovrebbe volere Che le persone Sviluppassero dei poteri Ma Ma Io mi immagino Come lei Si incazza e basta Scatena il suo potere Onda d'urto In tutto il pianeta E tutti i blippati O sengono i poteri Sì Diciamo che Avrebbe senso Se ci pensi Per quello che hai detto tu Monica Rambeau È andata Avrebbe senso Voi siete sicuri Che non li vadano A prendere Da un altro universo Speriamo di no Però di no Perché Il problema Sai cos'è Ok Li dai poteri A tutti Però personaggi Come Magneto Xavier Logan E quelli Nascono dopo Nascono successivamente E tu capisci che Comunque il personaggio Di Magneto È fortemente Legato al suo passato Ma anche Logan Tutte le guerre mondiali Tutte le Volendo No dimmi prima Non lo voglio interromper Se tu vuoi prendere Un personaggio Dall'altro universo Per me si può anche fare Che ne so Dici prendi Xavier Prendi Magneto Ma se devi prendere Tutta la specie mutante Non penso che lo faccia Alcuni li vanno a prendere Da lì Perché Ma poi scusami Quei personaggi Che sono stati presi Dall'altro universo Ma tu dici Tipo Kingpin Daredevil Presi E ma proprio loro Che fanno Poi riaprono La scuola di nuovo Con gli stessi fatti Che hanno già vissuto Ci sono i rumor In Doctor Strange Riguardanti Patrick Stewart Quindi Non è Sì Però Quello è Lui Al di là Della questione rumor Al di là Della questione rumor Cioè Io l'ho detto Anche prima Di rumor La questione che Cioè Magneto Magneto È Magneto Perché ha tutta la questione Di quando Durante Io ho la soluzione Io ho la soluzione Allora Innanzitutto Per come lo stanno proponendo Anche in ambito Wanda Sarebbe Un'esplosione di poteri Legato a uno sviluppo Accelerato Del procedimento Di evoluzione umana Sì Quindi Prima potrebbero già esserci Stati Dei mutanti Di cui il mondo Non ha saputo nulla E che magari hanno Lo shield All'epoca Chiuso in una scuola Su un'isola Tipo Genoscia Cracoa Chiamala come vuoi Sono stati lì Con gli insegnamenti Impartiti da Xavier Vero che a livello fumettistico I due sono legati In particolare Magneto Al nazismo Io sono convinto Che semmai Dovessero proporli Ex novo Quindi senza varianti O Prelevazioni Proprio forzose Da altri universi Li faranno Afroamericani Assolutamente Si pociferava Tempo fa Perché Stellis No no Magneto Xavier Solo Magneto Xavier Perché Stellis Si era ispirato A Martin Luther King E Malcolm X E perché sostituisci Al nazismo Che adesso È sempre Una cosa che va ricordata E celebrata Ma risulta un po' Fuori tempo massimo Condannata O li prendi anzianissimi Si si condannata Hai detto celebrata Si hai detto celebrata No no La giornata della memoria Assolutamente Mattia Non diciamo cose Ci dissociamo Ho la foto di Fidanke Nel cassetto Vabbè Era un personaggio fittizio Dicevo Che sostituiresti Il nazismo Una tematica Un po' più attuale Che hanno già affrontato Con Black Panther Certamente Anche Falcon and Winter Soldier Sì Però siamo sempre lì Sull'eco del Black Lives Matter E mi sembra l'unica Veramente E risolvi anche un problema Perché se tu Cioè tu puoi anche fare Che sono due militanti In un movimento Per Che si batte Per il diritto Le persone afroamericane Nel momento in cui Hanno i poteri Passa anche solo Qualche settimana Vedono che L'odio si acuisce Capiscono che il problema È più ampio E quindi si mettono Scendono in campo Come Berlusconi Nel 94 Quindi potrebbe anche Starci come cosa Un messaggio di Natale Di Xavier E quindi loro All'inizio Sono militanti Contro il razzismo Per Che poi sviluppano Dei poteri Vedono che Vedono che Dall'odio Verso Una minoranza Diventa proprio L'odio Verso che sviluppano Dei poteri E capiscono Che il razzismo È qualcosa di Quindi diventano Protettivi Verso i mutanti Cioè Magneto Creerà la sua Fratellanza Esatto Estendono la loro Causa Proprio Nei confronti Anche dei mutanti Cioè sta roba Una scrittura Incredibile Infatti stavo per dirlo Sarebbe figo Ma è troppo complicato Esatto Sì è troppo complesso Ci sono troppi passaggi Di mezzo E quelli che c'erano Prima E poi il blip E poi Vanga Per questo dico È molto più semplice Dire Ok raga Ci pigliamo un magneto Volvoli da un'altra parte Però il punto È che se li prendi Se tu prendi questi mutanti Dall'altro universo Cioè non ci sono altri mutanti Nel nome Cioè tu puoi prendere Quello che dicevo prima Puoi prendere i singoli personaggi Però devi avere bisogno Ma non c'è il deck Ma potrebbero fare A quel punto Che i nostri mutanti I nostri dell'MCU Partono adesso Con una guida Di gente Che ha già vissuto la faccenda Però anche lì Come dicevo prima Rivrebbero le stesse cose C'è un'altra cosa Più semplice Ma terribile per me Da un altro universo Probabilmente quello Fox Prendi un piccolo manipolo 6-7 personaggi E la problematica razziale diventa Sono di un altro universo Che ci tornino Sì ma vede Ma che schifo Però è sempre Ma effettivamente funziona A me non piacerebbe Ma funziona Funziona Beh vedi E mandateli a casa loro I nuovi poi I nuovi che dovresti creare Eh capisci Funziona Ma che schifo Così sono solo gli X-Men Diciamo Non sono i mutanti Capito Eh sì Sarebbe solo Stanno rilanciando Il cartone animato Anni 90 Quindi quella formazione Stop Vero Non lo prenderebbero Quelli giovani Però che brutto Io non lo prenderei Il problema è che Se ti dicono adesso Ok non fanno niente Di tutto questo Prossimo film ti dicono Fanno gli X-Men Ti dicono Raga ci sono stati Milioni di mutanti Fino adesso Di qui Nessuno 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 Siamo Niente Dipende come lo gestiscono Con Eternals L'han fatto Sai come possono gestirlo Eternals Lo faranno con i vampiri Probabilmente Eh Sai come possono gestirle Ma con i vampiri C'è anche un altro Escamotage raga Quello che avete visto In No Way Home L'incantesimo Di un altro Stregone supremo Che in passato Ha cancellato la memoria A tutti Oddio Magari l'antico Ma anche semplicemente Magari l'antico Cioè Isaia Non l'abbiamo mai conosciuto Fino ad oggi No È vero Perché lui non voleva No certo Però per un bel periodo Lui l'avevano nascosto In dei laboratori Magari anche altre persone Di cui hanno notato Un po' alla New Mutants Che poi vabbè Non verrà preso ovviamente Canonico Le hanno nascosti È quello che dico In un posto E poi dopo Potrebbe esserci La scuola La scuola segreta Per giovani mutanti D'altro canto È sempre Ma di piccolo gruppo Di persone Non è l'altro Dipende quanto No però Quel piccolo gruppo Di persone È nata Con quel gene lì Quindi vuol dire Che il gene È già Potenzialmente espandibile Quindi sì Tu hai Attualmente vivi Solo quelli Però potenzialmente Hai altre persone Che nascono Con quel gene lì Però così Io mi convincerai Di una teoria Che ormai sto sviluppando Cioè che La direttiva dei faghi Da un po' di tempo Questa parte È diventata Dovete scrivere Dovete pensare Una bella sceneggiatura E puoi fare L'esatto opposto Cioè Cristo Ma Cristo Stanno Sembra che si stiano Adagiando Dicendo Tanto la gente Lo stesso Li guarda i film Perché dobbiamo Impegnarci a scriverli Guarda che È da qualche film Che sta facendo Sta roba qua Inizia un attimino A far girare Mi lamento solo io Cos'è adesso Questo afflato Di ribellione Guarda che non è vero Non è assolutamente vero E devo che dico Le serie Stanno andando A puttane Da quando sono iniziate Ciancini ha fatto Cagare la merda L'equido Ci può stare Eternas Mi è piaciuto Però No Way Home Per quanto Fa cagare A livello di narrazione No Way Home Però puntava Adesso Facciamo la fusione Hai ragione Hai ragione Che puntava Su l'entusiasmo Però c'è comunque Una scrittura Che è fatta Col buco del culo Perché Perché tanto pensano A noi che cazzo Ce ne frega Vengono a vederli E le apprezzano pure Quindi perché dobbiamo Mettere roba complessa Che magari poi non la capisco Cioè l'hanno fatto Con Eternas Non hanno fatto una roba Complessa Ma hanno cercato Di fare una cosa Un pochino più Sensata E scritta un po' meglio E non è andata bene Purtroppo Cioè capito Quello che dicevo io È che con Spider-Man Hanno giocato su quello Perché sapevano Che era talmente forte La cosa Che copriva Altre Altre Lacune Per degli X-Men Iniziali O hai una scrittura Fatta per bene O che cosa copri Che culo parato hai Perché Ok sono gli X-Men Però Riclami Mettelle Ne sono tutti contenti Perché sono Scorali Ma se lo fanno Però poi bisogna capire Come costruiscono Da adesso in poi Come dicevamo prima Un'ipotetica scuola Perché se vai a prendere Quelli di quell'universo Devono anche Cioè Gli fai rivivere Le stesse cose Che hanno già rivissute Però io pretendo Che li prendano Li faccio arrivare E li mettano In questi hotel a 5 stelle Con il wifi E 35 ore al giorno Mi piace Venga la devi rendere Incredibile questa cosa Ti saluto perché Anche io che devo partire In live Tra 5 minuti Ciao Grazie mille Grazie a tutti Un piacere Ciao 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 Ho le ultime 3 domandine di chiusura Se non avete altro da dire 3 domandine Addirittura Sì ma sono veloci Sono veloci Tra tutte quelle MCU Del 2021 Cioè se volete Potete anche fare Una classifica veloce Se no La vostra preferita E quella che vi piacerà meno Vai Andrea Meno Giulia Scusa Vai Giulia Devo dirlo Mi è uscita Proprio Scusa Meno What if Perché Non si può neanche dire Ma è una serie Come commento a Okai Che è una serie Cioè è una cosa E di più Dipende Da che punti di vista Perché comunque Tutti questi prodotti Sono valutabili Da diversi punti di vista Non c'è un unico punto di vista Che lo puoi applicare a tutti Perché tipo C'è Wandavision Che ha delle ottime premesse Un ottimo sviluppo Poi Poi abbiamo Loki Che per quanto abbia fatto acqua Da tutte le parti Il Oh mio Dio Quando è arrivato Kang Cioè me l'ha Generato Quindi Mi ha Veramente fatto uscire di testa Da quel punto di vista Okai è carina Però boh Dal punto di vista nerd Quanto ci ha dato Se ci pensate E The Falcon and Winter Soldier C'è Sebastian Stan E io pianto nel finale Anche Comunque tutto il discorso di Isaia Era molto facile Però mi ha commosso tantissimo Quindi dal punto di vista emotivo L'MCU deve toccarti emotivamente E quello l'ha fatto Quindi ci sono dei punti di forza In tutte le serie Tranne What If Che ha solo l'episodio Diciamo Con Dark Strange Quindi non ti saprei rispondere ancora Ok Va bene Vic Allora Quella di Forse che mi è piaciuto di meno Quella di The Falcon and Winter Soldier Perché con il senno di poi Ci sono troppe cose che non vanno Non ultimo il fatto Che i due personaggi protagonisti Non si sopportano fino alla fine E Peraltro Non hanno funzionato come coppia E In più in What If Mi vedo Il Falcon Zombie Che muore Con Bucky Che dice Lo so che dovresti dispiaciuto Ma no Vaffanculo Cioè Zero proprio Quella che mi è piaciuta di più Io ti dico Ok Perché Per quanto vada a Vision Sia migliore Sotto tanti punti di vista Il discorso che ho fatto prima Prima Non me ne frega niente Che mi fai Sei sette episodi Fatti bene Poi gli ultimi due Non ingranano E ti rendono E ti rendono vanno Quello che è stato prima E non è una questione Di aspettative deluse È una questione Che è proprio una scrittura Che non funziona Sotto troppi punti di vista Poi Ti dico Che poco sopra Io metto Loki Ma per il semplice fatto Che Loki Anche quella C'è nel senso Penultimo posto Ok Sì Loki sicuramente È meno bella Di WandaVision Perché Le abbiamo già parlato Troppe volte Non si capisce Un cazzo Di quello Cioè Ti hanno creato Un cosiddetto Sistema magico Che non funziona Fa con tutte le parti Non ti fa capire Un cazzo Ancora adesso Noi continuiamo a parlare Di collegamenti all'occhio Per il multiverso Però c'è chi dice Giustamente Eh ma quelle sono linee temporali Non multiversi Non si capisce una sega Hanno fuso le due cose È un pastrocchio Senza contare Che ad esempio Ci sono queste mosse Alla Disney Tipo quella Di proprio L'amplice del queerbaiting Che ti fanno capire Che l'occhio è bisessuale Eccetera Però poi Guarda caso Finisce con una donna Eh ma è sempre lui Sì Ma è una donna Perché non lo fai finire A livello romantico Con una versione maschile Un'altra versione maschile Di lui No Femminile Perché va bene Dire che è bisessuale Però non lo devi far vedere Alla fine La tua scelta romantica Deve comunque essere una donna È il meno Tra virgolette Perché non è questo Che mi rovina la serie Però comunque Ha fatto incazzare Così come Tutta quella puntata Di lui Che si comporta Come un coglione Sul treno Tu pensi Che sia un piano Per depistare Eccetera No Invece Semplicemente Si è comportato Una coglione A me queste cose Fanno incazzare Senza contare Il finale Non mi ricordo Se è la puntata 2 Forse era 3 Non mi ricordo La puntata in cui C'è le linee temporali Che si stanno Dipanando Nella puntata 2 Poi abbiamo risolto Ma come Se mi fai il cliffhanger Ma non esiste Ma non esiste What if Anche what if Non è che sia Però lì Concordo Ci voleva un pezzetto In più Però mi ricordo Che il concetto Era tipo Abbiamo fatto partire Tutti gli agenti Della TVA Sono andati A falciare Sì Nella puntata dopo Questo però Perché se tu guardi Il cliffhanger Di quella puntata Voleva essere Un cliffhanger Per dire Si viene schippato Una puntata Per quello Concordo A casa mia Questa si chiama Presa per il culo È come la seconda puntata Nella seconda stagione Di True Detective Che succede una cosa Che dici Oh mio Dio E inizia come Ti abbiamo preso Per il culo Perché l'hai fatto? Per crearmi hype Per la puntata dopo Ma deve avere Cioè se tu vuoi crearmi Attesa per una cosa Cioè nel senso Capisci che Io ti posso Io posso stupirvi tutti adesso Mi tiro giù una zip E sono un alieno Bello Ma che cazzo di senso ha? Scopriamo nella prossima live Questo Scusi Ma è molto semplice È molto semplice La questione Sì no E poi però Poi però faccio così E avere una maschera E mi hanno messo Un costume a forma di me Sotto una testa Finta E sotto a quella Ci sono veramente Alaldo Giovanni Giacomo Quando si tolgono le maschere Sicuramente ti stupisce Ma non ha un cazzo di senso A livello logico Ok Questo che sto dicendo Ecco E' come la roba di Griffinson Non sono un cavallo Sono una scopa Cioè Però lì è verenziale Fatta apposta Capisci Il discorso qual è qua? Il discorso che è What if What if è quella che perdono di più Perché è una serie comunque antologica Poi hanno voluto lo stesso Metterci la macro tram Alla fine Che non serve un cazzo Ma vabbè Però perlomeno Essendo antologica Ci sono puntate più riuscite E puntate meno riuscite Ma Mi importava di meno Perché Il collegamento Arrivava solo alla fine Tanto per Però capisci Che se vedo la puntata Collegamento senza camora Ricordiamo Io questa cosa Non la perdonerò mai Cioè Questa cosa mi fa cagare Per me la serie antologica Va bene Ma il collegamento Cioè La puntata finale Che collega tutto E ti va a dimostrare Infatti Ti manca un pezzo di storia E la merda Infatti Se posso dire Secondo me Lo sbaglio più grande È stato voler forzare Un collegamento Che non era assolutamente necessario La vuoi fare antologica? Falla antologica Come serie antologica Funzionava Perché come tutte le serie antologiche Ci possono essere Puntate che funzionano Puntate no Ma nel complesso Sono più quelle che mi sono piaciute Che quelle che non mi sono piaciute Siete Ed era una serie Fatta così Va bene Quindi è quella che perdono di più Perché comunque Era anche sperimentale Perché la Marvel Non aveva mai provato A entrare con così tanta prepotenza Nel mondo dell'animazione Anche con uno stile di animazione Molto interessante Quindi Non è tra le peggiori Però diciamo che A me una cosa ha colpito Che abbia avuto più seguito Un votifero rispetto a un Hawkeye A me è questa che ha colpito tantissimo È stranissimo Che una serie Per giunta animata Abbia più successo Di una serie Con un personaggio Tra i principali Sai perché Vic? Perché il votif è multiverso Esatto Vero 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 Hai ragione Però un po' mi dispiace Perché comunque Se prendi Occhio di Falco E prendi What If Ha molti meno difetti Occhio di Falco Assolutamente Ma ti dirò di più Vic Io sono abbastanza certo Che per me La loro idea era Che fosse antologica Proprio di base Probabile Sai che forse Pigliamo Captain Carter E iniziamo a buttarla Da qualche altra parte E quindi Per forza di cose Hanno dovuto Poi adattarla Però questa prima stagione Potevano lasciarla antologica Tanto poi Captain Carter La prendevano dopo Ma sì Ma poi anche Sta roba qua Di Captain Carter Cioè sì Va bene Carina Adesso probabilmente Faranno una serie Nel action Di cui Non me ne frega Che nonché Eh se mai La faranno Secondo me Tipo È l'attrice Che gli sta Tanto simpatica E non vogliono Mollarle in nessun modo Perché provano A lanciare quel personaggio Da 12 anni E continuano Miseramente E hanno fatto La serie tv Della gente Carter Eh Decanonizzate Che è stata cancellata Vabbè Altre dinamiche Quelle Rob Tu hai finito Vic C'era Ok Rob No Allora Io invece ti dico Che come Giulia La serie che ho apprezzato Di me È stata proprio What If Se tecnicamente L'ho amata Perché da un punto di vista Di colore Animazione Character design La trovo veramente folle Il problema Era proprio Nella scrittura Nel senso che Delle volte Non era neanche What If Ma era un Elseworld E altre volte ancora Invece Quando era un What If Non faceva quello Che i fumetti What If Fanno Ossia Prendere un personaggio Che è caratterizzato In un determinato modo Portarlo fuori Dalla sua comfort zone Per un incidente Un'altra cosa E a questo punto Vedere Quell'azione Quel momento Come cambia E stravolge La psicologia Del personaggio Il primo episodio Ad esempio Ho visto semplicemente Uno swap Nei ruoli Di Steve E Peggy Sono sempre Steve E Peggy Anche se hanno Dei ruoli differenti Questo mi ha un po' Triggerato Sono poi rimasto Più aperto E permissivo A discapito di altri Che hanno detto Eh però C'è un certo punto Un evento Nexus Un qualcosa Che cambia la storia Ma fino a quel momento I personaggi Dovrebbero essere Così come l'abbiamo Conosciuti Nel nostro universo Invece ci sono Delle retcon E delle cose Che non funzionano Io lì Ho voluto mantenere Una sospensione Delle incredulità Mi è dato fastidio Quando What If Ha smesso Di essere coerente Anche con se stessa Ha iniziato A mettere delle scene Che non avevano senso Tipo a un certo punto Il visione Ultron Che incontra Il Thor cazzone Quella scena Non si riesce A collocare Neanche all'interno Del finale No perdete proprio Che cazzata Quella storia No non lo dovevi Ma no Io mi ricordavo Solo Gamora Ora mi sono ricordato Pure Quello La odio Poi ci sono stati Degli episodi Quella parte Era proprio Nella puntata Di Gamora Cioè nella puntata Di Gamora Ti avrebbero fatto Del pezzettino In più Guardi Io voglio vedere La seconda stagione Quell'episodio Dove cazzolo buttano Voglio capire Che fanno Non avrà più senso Ormai Non avrà più senso Perché tu già sai Come finisce Già sai L'oggetto A che serve Già sai Che l'avranno Già usato La pressa dei coglioni Esatto Nel altro Ti dico di più Che gli autori Di What If Fanno detto Ci sarebbe piaciuto Sapere che il multiverso Funzionava come in Loki Perché avremmo giocato Di più con le guest star Avremmo preso Altri attori Altre attrici Per interpretare Gli Avengers Anche celebrity Di Hollywood A livello televisivo E quant'altro ancora Per giocare di più Ma per l'inesima volta A me questa cosa Che non si parlano A me questa cosa Che non si parlano Sconvolge Perché è proprio Il modo superare Io credo che sia Per le prime Ma è la stessa cosa Che è accaduta Con Star Wars Tu fai una trilogia In cui i registi Non si parlano I calci sul coccige Non esistono Lì però C'era un progetto L'hanno completamente Stravolto Poi l'hanno un po' ripreso Ma no Ma Jimmy L'hanno stravolto Perché non si sono parlati No certo Però dico Sarebbe bastato dire Oh questa è la sceneggiatura Di Ryan Johnson Concordo Però dico Fino a Far From Home Facciamo che era L'ultima cosa uscita Faceva tutto Kevin Feige Cioè nel senso Si parlavano C'era magari qualcosina Qua e là Ma bene o male Si parlavano Arrivano le sere Arriva Disney Plus Complice magari anche La pandemia E non sono riusciti A gestirsi Non è che è troppa roba È che siamo tornati Kevin Feige È stato promosso A capo di Marvel Television Dopo che hanno calciato Fuori calci in culo Ike Permatter Lì Tutti hanno pensato Finalmente Cosa è successo Delega tutto A Victoria Alonso In modo che Ancora una volta Si è formato Kevin Feige Per i film E un'altra persona Che fa le serie Attenzione però L'Alonso è entrata In vigore Da Ok 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 La prima serie Che cura Sì No no Verissimo Verissimo Ma proprio per questo Ad adesso ci sarà lei Inizierà a parlare Con il tempo Sempre meno Con la divisione Marvel Studios Quella per il cinema Le serie Ragazzi le serie Sono problematiche Perché non vogliono Inserirle per bene Nell'universo cinematografico Il che è anche giusto Perché se tu le inserisci Per bene Crea una situazione Per cui le persone Per capire le cose Devono guardarsi serie Di puntate intere Che non vogliono fare Non vogliono farlo È giusto Che le serie Non siano così Così Coese Con il cinema Ma allora Che cazzo di senso hanno Non me le fare Preferisco Come era prima Preferisco Che non siano coese Se devono essere coese così Se me le devi fare coese Con il buco del culo Non farmele Fammele diverse Fammele che non ci sono Veri collegamenti Perché così Se tu mi metti I collegamenti Fatti così male Non funzionerà mai Il problema È che poi Tra l'altro Inserendo il multiverso Già Se ci sono dei casini Per delle robe piccole Tipo Yelena Belova Cioè Come va a quadrare Poi tutto il discorso Del multiverso Cioè Se già ci perdiamo Yelena Belova La Contessa Valle Spluga Eccetera Tra Black Widow E Adesso Kai Tutto il discorso Del multiverso Poi quadrerà Cioè Secondo me Non quadrerà All'interno dei film Figuriamoci Tra film E serie Perché Ma perché Finora è quadrato Non quadra adesso Che siamo all'inizio Non quadra adesso Che siamo all'inizio Ma il fatto che C'è il discorso Del Tutto ciò Che è stato detto Finora In Loki Poi non c'entrerà più Perché sono terminologie Concetti Che riguardano solo La TVA Perciò le riprenderanno In Loki 2 Non le rivedremo più Avanti Anche il discorso Delle Delle versioni Delle varianti Siamo sicuri Che ve lo riprenderanno Il discorso Delle varianti In Loki In Loki Sì Però ad esempio Varianti È un termine Usato dalla TVA Quindi Ma concettualmente Perché Scusa Allora Metti che Come dice Andrea In Spider-Man Te lo fanno Però Nessuno li chiama Perché nessuno sa Che il termine è quello Ma alt Cioè Se arrivano Tipo appunto I due Peter Parker Provengono da due timeline Differenti O da due universi Differenti Sono la stessa cosa All'interno del Marvel Cinematic Universe O sono due cose diverse Le varianti Le varianti Le varianti riguardano solo le timeline Secondo me sono la stessa cosa E lo so Però fisicamente Non sono la stessa cosa Ma ragazzi Ma non torna neanche in Loki Non torna neanche in Loki Perché tutte Tutte le varianti di Loki Hanno aspetti Addirittura Con formazioni differenti C'è un Loki alligatore Mentre invece Le varianti di Kang Sono tutte Con la stessa faccia E Peter Parker Sono tutti diversi O almeno Sono tutti Con la stessa faccia Quelli Che lui ci ha fatto vedere Cioè nel senso Magari i Kang cattivi Che portano alla guerra Sono fatti così Quelli così Sono cattivi Ma È tiratissimo È una spiegazione di merda Lo so Ma non è una spiegazione Io non lo dico È merda Perché lui Lui fa le battute Sul fatto che Sono tutti dei begli uomini Quando Quando lui Torna Alla Alla TVA C'è la statua Che ha la faccia Di quel Kang Nonostante non sia quel Kang Non sanno neanche loro Che cazzo sta facendo Questo è cattivo Ragazzi Questa è cattiva scrittura Non ci sono cazzi Che tengono Possiamo trovare Tutte le giustificazioni Che vogliamo Il fatto è che Quello che ti dicono È che neanche loro Sanno quello che stanno facendo E sapete Ma sapete perché Se lo fanno andare bene Perché tutti guardano E si entusiasmano Ma è compreso Sì Finché il pubblico Te le passa tutte E non Finché gli fa le cose spettacolari Non gliene frega un cazzo Loro non sono tenuti In nessun modo A complicarsi la vita Confidiamo nel futuro Ma Sì per forza Perché comunque Tieni conto Che adesso c'è anche Il fattore novità Non abbiamo mai avuto Serie della Marvel Ambientate all'interno Delle MCU Con questo budget E questo cast Avevamo anche il lockdown Non c'erano i film Al cinema Quindi era l'unica forma Di intrattenimento Per quel pubblico Che era affezionato All'MCU Ma non poteva vedere Questi personaggi Nel momento in cui Si ritorna anche al cinema Queste cose diventano La routine La quotidianità Ti abitui ad avere Questo spettacolo televisivo Confezionato in questo modo Con questo budget E questa estetica Questi effetti visivi A un certo punto Non ti basta più E vorrai qualcosa di più Sai perché te lo dico? Perché i problemi Nelle prime tre fasi Ci sono sempre stati Però io sto sentendo Un pubblico Un po' più critico Solo negli ultimi anni Perché? Perché sono dieci anni Che guarda questa forma Di intrattenimento Cresce il pubblico Si abitua A un determinato modo Di vedere Usufruire dei film E a un certo punto Scatta l'abitudine E vuoi quel qualcosa in più Penso che sia una cosa normale Sì Sì Poi è finito Rob? Mi pare non lo so Guarda Visto che ci siamo dilungati un po' Ti dico Ti ho detto la peggiore Ti dico solo la migliore Nonostante abbia apprezzato Tanto Ok Perché la serie Con meno difetti E la più continuativa E quella gestita come serie Anche a mia volta Apprezzo di più Andavision Perché comunque C'è la metanarrativa E gli attori escono fuori Dalla comfort zone In ogni episodio Devono recitare In una maniera differente E sono i due personaggi Che sullo spettro emotivo Al cinema Hanno portato di meno Perché erano secondari Slash Comprimare Un po' sullo sfondo Qua invece sono protagonisti assoluti Hanno giocato tanto Sulla malattia mentale Hanno giocato tanto Anche in maniera molto vanilla Cosa che non si faceva Nell'MCUS In dei tempi del primo Iron Man Prima di Eterni Sul sesso Sulla vicinanza I complitini intimi Lo stare insieme a letto Era una dinamica Che a me un po' sfuggiva Perché vedi che da una parte Ci sono solo gnocchi Dall'altra parte Ci sono solo manzi Ma perché non si crea Tensione sessuale Era una cosa che mi mandava i pazzi Visto che non erano bambini In WandaVision Invece esplorano questa cosa Ci ha fatto sollevare Tante domande Tante curiosità Ogni tot Quando si parla Mi è just chatting Delle serie Marvel La gente mi chiede ancora Ma il tizio della protezione Testimoni Ma l'apicoltore L'apicoltore Questa situazione di mistero Non si è più creata Con nessun altro show Quindi nel mio cuore C'è WandaVision È stare una magia Un po' WandaVision Letteralmente Sì Però io continuo a pensare Che secondo me è peggio Se ti creano la magia E poi te la distruggono Asbury Ma non ci distruggere i sogni Vittor Per me sono uscite Sette puntate Ma sono uscite Sette puntate Poi ho disdetto Disney Plus Sì ma tutte queste cose belle Compreso la cosa La cosa di Di Pietro Te la mandano a puttane Con un episodio Ok vabbè ma Cioè Ti prego Ma no Lasciaci Ti prego Raffaello Durello Ricordiamoci È come se Ti fai una cena meravigliosa Ok E poi il dolce fa cagare Poi no Poi arriva lo chef Con una pentola piena di merda Te la butto in piatto Adesso te la mangi È bello Vuolo quello che ho mangiato prima Se poi devo mangiarmi un piatto di merda Scusa Vabbè ti soffermi sul lato positivo Dai sul ricordo Dello primo piatto Per essere coerenti Per essere coerenti Con l'episodio Ti mette una foglia di vento sopra Perché non è così merda Eh beh Per dare un aromino Per rifarti la bocca Però è così Andrea Allora vado super veloce In velocità Andiamo Allora Occhi di Falcom Ho detto prima Quella che mi è piaciuta di più Perché avrei messo Wandavision Però ripeto Il finale Quello che è Soprattutto Ehi guarda L'ingegnere spaziale Sarà una bomba L'ingegnere L'ingegnere Scherzavo Che poi lì mi ha fatto incazzare Perché allora che dici Eh no Noi gli siamo fatti qui per menta L'hanno detto loro Ci hanno detto No raga L'ingegnere spaziale Quando lo scoprirete Era come la roba L'attore pazzesco Eccetera Eccetera Ma quello Allora Quello non mi ha dato Alcun tipo di fastidio Perché ci stava E' uno scherzo E' proprio da Paul Se tu lo vedi Qualche intervista E' proprio da Paul Bettany Dire una roba del genere Che potrebbe anche avere senso Nella trollata Ma dire No raga L'ingegnere spaziale Sarà una bomba incredibile E poi Lì c'è il dolo Non lo vediamo Non è che dici No non è stato all'altezza L'aspettativo No non dicono proprio niente E rimane ancora Io ancora c'ho il dubbio Se sia effettivamente La tizia che vediamo Quando gli consegnano il rover Oppure Oppure qualcuno Di no E la peggiore Che poi peggiore Ripeto A me alla fine Sono piaciute Paricamente tutte Chi più chi meno Ti direi Falcon and the Winter Soldier Ma non perché Non mi sia piaciuta Ma perché Se ci ripenso Forse quella Che mi ha lasciato meno Nel senso che Bene o male Qualcosa Da tutte le altre Le riesco a tirare fuori Che dico ok Cioè se ti devo dire Ricordati qualcosa Che ti ha colpito Ti direi Ok da tutte Riesco a trovare qualcosa Far con the Winter Soldier Sì c'è il discorso Del razzismo Che mi è piaciuto molto Ma a livello di trama Eccetera Il trama Perché c'era una trama Più che altro Tutte queste cose Continuo a dire Raga La torre degli Avengers È in vendita Porca puttana Sono tre anni Che è in vendita Eh ma Steve È sulla luna Mi fai vedere Una tomba Un qualcosa Un calma Tra dieci anni Tempo al tempo Eh dai Tanto siamo qua Poi veramente Erano tre domande Una volta Passata mezz'ora Le ultimissime due cose Andate velocissimi Proprio subito Istantanee Boba Fett Se la state vedendo Vi sta piacendo Sì no È un film o serie tv Da consigliare Io Boba Fett Vi dico Mi sta piacendo Ma secondo me Cioè mi piace molto La storia del passato Ma la storia del presente Dico boh ok Manca il tipo Dove arriviamo Dove dobbiamo andare Questo Esatto Stessa cosa che Che hai detto tu Nel senso che Il flashback è molto figo Mi piace un sacco Come hanno esplorato Tusken Nell'ultima puntata Però la parte del presente Boh Nel senso che Lo scopo Quale sarà Tenersi Il controllo Della cittadina Tutto il tempo Speriamo che Introducano Questo villain Che dicono Serie da consigliare Ho visto finita Prima stagione Di The Morning Show Su Bellissimo Steve Carell Per me Cioè va preso E messo su un piedistallo In qualsiasi In qualsiasi format Perché C'è stato veramente Immenso Riesce a fare Parti comiche Parti da stronzo Lui è Veramente mostruoso E basta Niente Quindi guardatevi The Morning Show E soprattutto Apple TV Plus Tra questa The The Lasso Non è da sottovalutare Secondo me Non fa uscire Tantissima roba Rispetto agli altri Ma quello che fa uscire Devo vedere anche Foundation Che non mi ricordo Che la consigliava Mi è piaciuta? Io ho visto solo I primi episodi Poi ero in pari Quando mi sono persa Quindi No ma non mi è dispiaciuto E odi Asimov Può piacere la serie Decisamente No A me piace Asimov Però nei primi episodi A me Mi intrigava Poi non so come È finita la prima stagione? Sì 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 Intrigava talmente tanto Che hai visto due episodi No io ero in pari Mi ho visti quattro E poi mi sono messo a vedere Morning Show Ted Lasso Mentre aspettavo quello Ho detto vabbè Esploriamo questo catalogo Vabbè Ted Lasso Va vista tipo Almeno una volta a settimana Secondo me Allora Per quanto riguarda Infatti a me ha colpito Questa cosa Che tu hai Perché io Nella prima puntata Avevo criticato Questa cosa Che tu hai criticato Però nella seconda puntata Cioè io l'ho criticata subito E no A me quella cosa Era piaciuta Il problema è che Se mi fai la seconda puntata Che nei concetti È identica alla prima Ma vai avanti Cioè mi hai già fatto vedere Lui che viene rispettato Dai Tusken Ancora? Nella terza puntata Cosa fai? Che è ancora più rispettato Dai Tusken? Sicuro Probabile che È un arrivare al momento Di The Mandalorian All'incrocio della storia Ho capito Ma poi soprattutto Finalmente abbiamo un episodio Di più di 50 minuti E mi fai tre quarti d'ora Di flashback E non mi aggiunge niente A quello che mi hai detto Nella puntata precedente Questo mi ha un po' dato fastidio Un sacco di respeto Per quanto riguarda Eh sì Per quanto riguarda i consigli Visto che avete consigliato Foundation Vi consiglio un'altra serie Che secondo me È la migliore serie Una delle migliori serie Di fantascienza mai fatta Secondo me è anche meglio Di un Battlestar Galactica Con la I Inizia con la I No inizia con la I Si chiama The Expanse Ah bella Che secondo me La stagione precedente Quella che sta facendo adesso Era un po' calata Ma mi sembra Che si stia riprendendo Ho iniziato a vederla Posso dire che È veramente bellissima E ha anche Degli effetti visivi Non dipende Perché ad esempio Foundation Credo abbia i migliori effetti Che abbia visto in una serie Non ho mai visto Degli effetti visivi del genere Certo che episodi Poi li hanno finiti È roba che vedi nel film È roba che vedi Tipo Non dico che è roba La Interstellar Però Però insomma Magari non così Perché è una serie Comunque il budget È quello che è È alto ma non è Però comunque C'è una scena Nella prima puntata Che mi ha Mi ha fatto pensare Ma questa roba Come cazzo l'hanno fatta Mai vista una serie Televisiva con degli effetti Del genere Mai Neanche Westworld Mai Una cosa pazzesca Veramente Aggiungo per The Expanse A me è una cosa Che era piaciuta molto Io l'avevo vista Anni fa Quando c'erano tipo Tre stagioni Mi piaceva molto Il fatto che fosse Una serie fantascientifica Cioè di solito Vediamo o l'umanità Che prova ad andare Nello spazio O l'umanità Che ha già conquistato L'universo Tipo Star Trek E invece qua è Sistema solare O almeno fino a dove ero arrivato Io stavo nel sistema solare Non so se sono espansi Le dinamiche Marte La terra Era molto figo Molto politico No poi è molto Poi sai cosa È molto molto politica Eh infatti È tutta basata Sulla politica È come È una sorta di Game of Thrones Nello spazio Se vogliamo proprio fare un paragone È molto E secondo me E per dire Gli effetti visivi Sono strabilianti Ancora di più Se pensi che Le prime tre stagioni Erano Delle emittrate sci-fi Non è che si Ha il budget Ma non ha tutto Questo gran budget E poi L'ha presa Amazon Perché l'avevano cancellata Amazon l'ha salvata Ma secondo me Veramente 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 Una sorpresa Se non l'avete mai vista Fatelo Perché è clamorosa Giulia Allora Io sto aspettando Che succeda qualcosa In Boba Fett Non vedo l'ora Che succeda qualcosa Mi auguro Che prima o poi Succeda E ho visto Io adoro Gli horror merdosi Ho visto Un horror Super merdoso Su Amazon Prime Video Si intitola The Manor È ambientato Tipo in una casa Di riposo Con dei riti Celtici Delle robe assurde È fantastico Prendo nota Super merdoso The Manor Guarda C'è veramente È nuovo Nel 2021 È proprio una cosa Che ho riso tantissimo Mi ha fatto super ridere Non voleva ovviamente Però io ho riso tantissimo Quindi se volete Un po' di merda Lineamente Appalata Io recentemente Ho visto Ho visto Antlers Su Disney Plus L'ho vista anch'io E com'è Mi si è addormentata Anche l'anima No Veramente Mamma La vedo là Che la buttano La sponsorizzano Però No ragazzi Ti giuro È come se Si fossero uniti Scienziatori Di dire Allora Com'è che possiamo Inserire tutti i cliché Più stupidi Degli horror In un film solo Allora Fai così E la cosa brutta È che anche Diretta da Dio Ma soprattutto Ha degli effetti speciali Anche tangibili Con il pupazzone Fatti benissimo E infatti Io quando lo guardavo Dicevo Perché Era terribile Perché tu vedevi Un lato tecnico Fatto molto bene E tutto il resto Era un disastro Per me È stata bruttissima Sta cosa Invece è un capolavoro De Manor È tutto un capolavoro Dici premio Oscar In arrivo Come minimo Sarei dire Rob Allora A me Bobbuffet Sta piacendo Però Prendimi molto Con le pinze Perché io ad esempio Non ho apprezzato Re Mandalorian Mi è piaciuta tantissimo L'estetica Ma narrativamente L'ho trovato povero Sino all'osso Perché a te non piace Volevo qualcosa di più È vero Diciamo che come autore Sul front animato Mi piace Però è troppo Autocelebrativo Ah ti piace Il riferimento Che ho inserito Alla mia serie Figo Bello Però Molte lo chiamano Il filoniverse Il filoniverse Io sono un po' fan Devo dire del filoniverse Però ci sta Che non piaccia E invece Bobbuffet Ha queste vibes Gangstall A quei bravi ragazzi Che mi sta piacendo tanto È molto lento È molto discorsivo Ma è pieno di sostanza È pieno di world building E sotto trame Non so effettivamente Se e quando esploderà Spero che esploda Però allo stato attuale Anche se dovesse rimanere così Non rimarrei poi così Tanto reluso Visto che però Si parla Avete parlato di fantascienza Avete parlato di Steve Carell Io vi consiglio Su Netflix Space Force Che è The Office Nella NASA La seconda stagione Non lo sapevo Pensavo l'avessero cancellata Invece no È andata abbastanza bene Peraltro Ha un indice di gradimento Molto alto L'autore è lo stesso Di The Office Io mi sono affezionato Immediatamente Ai personaggi Ha degli effetti visivi Peraltro Modesti Ma funzionali Non cala mai di livello E la scrittura Mi ha genuinamente divertito E ogni tanto Tira anche delle steccate Piuttosto profonde Che fanno scendere Un pochino la lacrimuccia Quindi se volete ridere In maniera intelligente Vi consiglio quello Ok Io in conclusione Secondo me qualcuno di voi Mi dice No è orribile Io consiglio L'ultima stagione Di Dexter Che sto vedendo al momento Manca l'ultimo episodio Io aspetto che esca tutta E poi Esce mercoledì A me piace Però dipende Come la fanno finire Perché hanno due possibilità C'è una possibilità Cacca Possibilità Ok E vediamo Partire dal presupposto Che credo Peggio dell'ultima È difficile fare Questa a me piace molto Non questa Quella prima No si ho capito Qual è L'ultima teorica In America sta andando bene Tant'è che si sta pensando Forse A espandere Il franchise Con uno spin off Su Harrison È lì il problema Secondo me Non lo so Io voglio Dexter Non lo so Però boh Vediamo Dipende come finisce Ho una notizia bomba Per Tiziano Che grande fan Che ho appena letto Ufficiale Rinnovato Per la diciannovesima stagione Grey's Anatomy E si gode Sono felice così Ottimo Fantastico Anche Giulia Guarda Io sono Super fan Onestamente Vi do io la notizia del giorno Sono anche Spiderman Che esce il 28 febbraio On demand Sulle piattaforme Quale 28 febbraio Ma non ho capito cosa No way home No way home Ah ok Anoreggio qui Sì esatto In fisico Non lo so Io però sono Sono un po' più Interessato alla notizia di Andrea Perché sono contento di sapere Che la pensione di Alain Pompeo Si assicurava Ancora di più Sì decisamente Meno male Sempre avanti Lei l'ha proprio detto Che lei continua a fare Gresalato Perché non se la caga Nessuno Ma considera Ma lei fa poi Pochissimo nella serie Perché A mano a mano La stanno tirando fuori Gli fanno fare delle cose In dei luoghi del mondo E quasi non ci sta Ah sì? Sì Fa delle Sì Ora non C'è tipo Non è più Non è più la protagonista Ma è il gruppo Il protagonista Lei adesso Si è già trasferita Ok C'ha Oltre a stare a Seattle Va da un'altra parte Va di qua Di là Non lo so Fa un po' delle sue cose E poi quello che fa Ma è che parla Tu che sei impari Ci sono due domande Che ti do dire Mi manca un episodio Che effettivamente Sia rimasta Gresalato Che conosco io Trombano ancora? Sì tutti Continuano a morire Continuano a morire Più dottori Che pazienti? No Non muoiono Vanno via Ah ok Questo giro Non li facciamo più morire Troppe tragedie Beh però Io mi ricordo Sempre Una stagione Con il covid La cosa dell'incidente aereo L'incidente aereo Ma quelli sono Gli episodi tragedie Come facciamo A togliere poi i personaggi Infatti Dai Io mi ci sono affezionato Ogni gli anni E voglio capire come finire Voglio sapere come Come finisce Comunque Ma non finiscono Ste robe qua Vabbè Un camelo Comunque Mi ringrazio Per la partecipazione Siamo rimasti due ore Io ho trattenuto tantissimo E vi auguro Una buona serata E non so Quando sarà Prima di chiudere Prima di chiudere Voglio dire Make the amazing Spider-man 3 Grazie Ciao Haftag 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 Buona serata a tutti Ciao ragazzi Ciao Grazie Ciao ciao Allora ragazzi Spero Spero vi sia piaciuta Al momento attuale Non so quando Faremo il prossimo Talk show Anche se E come detto Più volte Mi piacerebbe Veramente tanto A parte fare Talk show Con una tematica Come questa Mi piacerebbe Fare anche Un appuntamento Settimanale In cui si parla Delle cose Che succedono Nel corso Della settimana Tra film Serie tv Cose che si vedono Cose che non si vedono Notizie Eccetera eccetera Ma Concludo Quest'oggi Con un goloso annuncio Goloso e succulento Perché questa settimana Precisamente Questa domenica Precisamente Domenica 16 Gennaio 2022 Alle ore 11 Ci sarà una golosa stream Ok Questo è lo spoiler Degli spoiler Se non volete spoiler Su qualsiasi cosa Abbandonate Questo momento 3 2 1 Intervista tripla Con tutti e tre I doppiatori Di Spider-Man In esclusiva Al momento attuale Alex Polidori Doppiatore di Spider-Man Di Tom Holland Lorenzo De Angelis Doppiatore di The Amazing Spider-Man Di Andrew Garfield Marco Vivio Doppiatore Dello Spider-Man Di Sam Braimi Con Tommy McGuire Questa domenica Alle 11 Non mancate Penso durerà un'oretta Un 40 minuti Vediamo un po' E ovviamente ci saranno domande Sul capito Sulla questione Abbiamo mentito Di qua di là Cosette carine Anche dei mezzi Quizetti Ridoppiaggio di scene Facciamo un pochettino Di cosettine carine Quindi se volete Non mancate Poi comunque Arriverà anche su YouTube E a parte ciò Se siete su YouTube Venite sempre su Twitch Vi ricordo che siamo sempre Live su Twitch Ma soprattutto Noi ci vediamo sempre Tra le stelle Scatusci Grazie 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 Grazie